I miei capelli, non è la prima cosa sulla quale portare l'attenzione. Smetto di fare commenti scherzosi. Inizieremo tra pochissimi secondi, lo dico per chi ci sta seguendo, con esso i canali Facebook e YouTube, le geografie e i geografi di Padova hanno organizzato tutto questo e questo è il più grande convegno italiano mai realizzato in geografia online. Congresso, anzi, scusate. Wow, che emozione. Ma sul sito AGEI sta caricando adesso, sono collegata con un altro computer e vedo che sta caricando adesso la presentazione, cioè la diretta. Ho il mio pc che è un po' lento. Nel sito AGEI sta funzionando, è già in diretta. Ah, allora il mio pc che è un po' lento. Bene. Ecco, tenete conto che la diretta poi sia in Facebook che in YouTube avrà sempre quei secondi di differenza tra la diretta su Zoom. bene, si scollega il rettore. Allora, adesso. Sì, ci sono. Ecco. Benvenuto. Ciao, benvenuto, magnifico lettore. Grazie, benvenuti a voi. Benvenuto. Attendiamo ancora... Grazie. 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 Allora, benvenuti a tutti e a tutti colleghi geografi, studiosi delle discipline a noi vicini e appassionati del sapere geografico, benvenuti a coloro che portano la loro consolidata esperienza e giorni che contribuiscono con la loro energia e con la freschezza delle loro idee. L'avvio del congresso è convenzionalmente anche il tempo dei ringraziamenti. L'elenco delle persone da ringraziare per questa iniziativa sarebbe talmente lungo che occuperebbe tutto il tempo di questo breve intervento di apertura che porto a nome dei colleghi geografi padovani e credo che mi scuserete se esprimo un grazie generale a tutte e a tutti coloro che a vario titolo hanno contribuito all'organizzazione di questo evento così cruciale per la geografia italiana. Avremo modo e cura di ricordare singolarmente ogni collaborazione negli atti del congresso. Con vivo piacere tuttavia prendo qualche secondo tempo a disposizione per ringraziare distintamente il rettore del nostro Ateneo, il professor Rosario Rizzuto, i direttori dei dipartimenti coinvolti nell'organizzazione del congresso, il professor Gianluigi Baldo, direttore del Dipartimento di Scienze Storiche e Geografiche dell'Antichità, il professor Carlo Pellegrino, direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile e Vile Ambientale. Ha avuto un imprevisto contrattempo e non potrà collegarsi a delegato il collega professor Massimo De Marche a rappresentarlo. Ringrazio con particolare affetto e riconoscenza il presidente della GEI, il professor Andrea Riggio e i presidenti dei sodalizi geografici. Il professor Riccardo Morri, presidente dell'Associazione Insegnanti di Geografia e coordinatore per l'anno 2021 del SOGEI, del coordinamento dei sodalizi geografici italiani, che riunisce le più importanti associazioni in società scientifiche attive in Italia in ambito geografico. Il collega Riccardo Morri prenderà la parola più tardi a nome di tutti gli altri presidenti dei sodalizi geografici, che comunque qui ricordo, il professor Egidio Dansero, presidente della Società di Studi Geografici, il professor Claudio Reti, presidente della Società Geografica di Roma, il professor Giuseppe Scano, presidente dell'Associazione Italiana di Cartografia, la professoressa Carla Masetti, presidente del Centro Italiano per gli Studi Storico-Geografici, tutti virtualmente presenti. Cari tutti, si apre oggi il trentatresimo congresso geografico italiano. Lo celebreremo in un modo speciale nelle forme consentite dalla situazione straordinaria in cui siamo costretti a vivere a causa della pandemia. Quando nel 2019 abbiamo concordato con il direttivo AGEI il titolo del congresso, mai abbiamo immaginato che da via poco saremmo entrati in lockdown e che proprio il movimento sarebbe diventato così difficile, vincolato i colori delle regioni alla diffusione delle varianti, ai Green Pass. Ma due anni fa la scelta del tema del congresso emergeva, oltre che dalla consapevolezza che sottoccava aspetti cruciali del mondo globalizzato, anche dalla volontà di creare una sinergia con il progetto Mobility and Humanities, grazie al quale il Dipartimento di Scienze Storiche e Geografiche dell'Antichità è stato identificato come Dipartimento di Eccellenza da parte del mio. Di nuovo mai in quel momento avremmo pensato che da poco intere aree del nostro pianeta ci sarebbero state prepuse per mesi se non per anni. In un mondo a pezzi, frammentato dal virus e dalle politiche di contenimento e controllo che esso ha determinato, l'attualità della nostra disciplina è resa ancora più evidente. Improvvise distanze separano i luoghi, inedite prossimità collegano le persone. Sono tutti spazi sconosciuti da esplorare con metodologie diverse e costruendo rappresentazioni nuove. Anche a questo potrà essere utile il nostro congresso, che pur se online eppur in queste condizioni così complicate, registra comunque 415 iscritti, dei quali 54 anche le escursioni post-congressuali e vede la presentazione di 330 contributi, organizzati in 38 sessioni nei 5 nodi tematici. Sono passati 67 anni da quando nel 1954 Padova ha ospitato insieme a Venezia il XVI Congresso Geografico Italiano. Lo presiedevano Luigi Candida, a rappresentare Caffossari e Giuseppe Morandini a nome dell'Istituto Patavino. Di quell'istituto che è divenuto dipartimento di geografia e poi sezione di geografia e che porterà il nome del fondatore, noi siamo gli eredi attuali. Ne abitiamo gli spazi di Palazzo Vollenburg, che proprio l'attivismo di Morandini aveva conquistato la geografia. Questi spazi nell'ultimo anno sono stati completamente rinnovati e vi invitiamo, appena vi sarà l'opportunità, a venirle a visitare di persona. Segretaria di quel lontano congresso e ne curerà anche gli atti, era una giovane Eugenia Bevilacqua, che nel 1968 diventerà la prima donna italiana professore ordinario di geografia. Oggi a Padova, su 12 geografi umani, 8 sono donne. Due giovani colleghi sono da poco entrate a far parte della geografia padovana. In quel congresso, inoltre, Elio Migliorini proporrà la costituzione dell'Associazione degli Insegnanti di Geografia e nel 2004, proprio qui a Padova, si è festeggiato infatti il cinquantesimo anniversario dell'AIG. La sessione dedicata all'insegnamento della geografia in questo congresso è anche in memoria di quelle importanti eredità. Ora, se riportiamo la mente alla metà degli anni cinquanta, gli orizzonti politico e sociali che si presentavano erano drasticamente diversi da quelli che possiamo osservare oggi. Basti solo pensare al Veneto contadino e migrante e a quanto è accaduto in seguito, dal successo del modello nord-est alla delocalizzazione, dalla dilatazione della città diffusa, una vera e propria metropoli sicuro inconsapevole di esserlo, alle molte crisi ambientali. L'acqua devastatrice del Vaillant nel 1963 e l'acqua inquinata dai fans oggi ben rappresentano la magnitudine dei problemi generati dallo sviluppo scorsoio, per usare le parole di quel grande poeta Veneto amante del paesaggio che è stato Andrea Zanzotto. Non meno è cambiata la geografia da allora. Molte svolte sono state affrontate, diverse sensibilità sono fiorite. Da una disciplina fondamentalmente e orgogliosamente italiana, nel 54 su 88 fra relazioni e comunicazioni solo 7 erano esplicitamente aperte a una dimensione internazionale, l'8%. Siamo passati ad una geografia che rimane italiana e il congresso è il congresso geografico italiano, ma in dialogo continuo con contesti internazionali e anzi globali, come ben potete vedere già dal buco abstract dove 79 contributi su 330 sono esplicitamente rivolti a contesti internazionali, è il 24% e dove comunque la lettoratura internazionale è pressoché sempre usata e citata. L'ideazione scientifica del congresso, pur se il motore organizzativo è stato ed è per forza di cose padovano, è stata largamente condivisa e aperta ad altre sedi e ai giovani. Ogni nodo ha infatti un comitato, che vi ringrazio, che ha pensato, stimolato le sessioni, compiuto le inevitabili e sempre faticose scelte dovute al limite del tempo a disposizione. Ogni comitato è composto da sei colleghi, per la metà non padovani, almeno due fra essi sono giovani, più di metà sono donne. Il primo nodo mette al centro i movimenti della natura, degli elementi, delle piante, degli animali. Il secondo nodo si focalizza sulle diverse impronte materiali del movimento, seguendo gli oggetti, le merci, i beni. Il terzo invece si concentra sui movimenti delle persone, dei gruppi, sulle diverse forme che assume la mobilità umana. Il quarto focalizza l'immaterialità del movimento, dedicandosi alla circolazione di idee, testi e rappresentazioni. Il quinto e ultimo nodo osserva il movimento attraverso la lente delle nuove tecnologie, delle potenzialità offerte dalla rete, dai nuovi sensori, dai GIS, che si confrontano non solo con il presente, ma anche con il patrimonio, cartografico ad esempio, che ci viene dal passato. Ci aspettiamo molto da questi nodi, che seguiranno un percorso articolato in sei slot temporali, organizzati ciascuno in una o più sessioni. Il racconto, seppur sintetico di quanto avverrà, delle idee che emergeranno, delle riflessioni complete, lo sentiremo nell'ultima giornata. Gli atti poi renderanno a tutti disponibili questo vasto bagaglio di contributi. Tra le innovazioni di questo congresso, per molti versi inedito, vi è sicuramente l'apertura programmatica a contributi presentati in formati alternativi, video, podcast e gallery fotografiche. Sono più di 20 e la loro gestione ha richiesto di immaginare forme diverse di diffusione e di conservazione. Per compensare in qualche modo la distanza obbligata dalla quale siamo costretti a lavorare in questi giorni, come comitato organizzatore abbiamo deciso di puntare decisamente sulle escursioni, seppur aperto il numero ristretto di persone, compatibile con le norme sociali in tempo di pandemia. Ci è sembrata questa la via per garantire a chi poteva partecipare una possibilità di incontro faccia a faccia. Non avevamo però calcolato la diffusione della variante Delta e la nuova incertezza che ha generato delle sei escursioni proposte e già organizzate, ne sono rimaste attive tre, sulle quali abbiamo cercato di concentrare le preferenze degli iscritti. È interessante notare come i luoghi delle escursioni si sovrappongano largamente a quelli delle escursioni proposte nel 54, la montagna e la laguna. Come sede padovana, i colleghi lo sanno bene, abbiamo sempre creduto fortemente al ruolo del lavoro di terreno e nella pratica e nella didattica delle escursioni. Molte figure autorevoli che ci hanno preceduto ci dicevano negli anni della nostra formazione che la geografia va fatta con i piedi, ovviamente strettamente collegati con la testa. Un pensiero infine alla collocazione di questo congresso nell'immediata vigilia dell'ottocentesimo anno dell'Ateneo di Padova. Il contributo della geografia da quando nella seconda metà dell'Ottocento è stata istituzionalizzata la sua presenza in Ateneo è sempre stato rilevante, tanto quello della geografia umana come quello della geografia fisica, tanto per gli studi sui territori regionali e nazionali come nell'apertura internazionale. Vi invitiamo a guardare anche la presentazione della sede nel sito del congresso, dove potete trovare il contributo che i geografi danno nella didattica e nella gestione di corsi di laurea magistrali, alcuni nuovissimi, i master e del dottorato, tra i pochi quest'ultimo con un indirizzo geografico esplicitamente organizzato. La geografia Padovani inoltre svolge un importante ruolo come motore della terza missione, dando sostanza all'impegno dell'università nella città e nel territorio, con iniziative per citarne solo alcune come il Museo di Geografia, che potrete visitare seppur virtualmente stasera o sabato mattina dal vivo, in presente. Aggiungiamo il MobiLab, e cioè il Digital Laboratory for Mobility Research, che è ospitato nella nostra sezione in Via del Santo e che consiste di un rinnovato laboratorio con postazione GIS e ricco di una innovativa dotazione software. Citiamo l'EMOIU, il Centro di Studi Avanzati Mobility and Humanities e il Centro di Eccellenza Jean Monnet sulla giustizia climatica. Concludo. Tra gli esempi indicati per spiegare il significato di Mobility and Mobile, il dizionario Merriam-Webster spiega An organization mobile enough to be able to cope with any emergency. Noi abbiamo fatto del nostro meglio. Grazie di essere qui con noi e soprattutto buon lavoro a tutti. Darei la parola a questo punto al magnifico rettore dell'Università di Padova, il collega professore Rosario Rizzutto. Grazie Marina e benvenuti a tutte e a tutte. è un grande piacere ospitarvi, anche se per via telematica, ma ospitarvi virtualmente all'Università di Padova. È un piacere partecipare con il pensiero e la gratitudine a un congresso così importante. Dei numeri che ha ricordato Marina, mi piace soffermarmi su due, il trentatraesimo congresso, a indicare una forza scientifica, un radicamento e un'importanza centrale sulla quale ovviamente noi, della quale siamo assolutamente convinti e consapevoli che la geografia ci accompagna dai nostri primi passi nella formazione di persone e non ci abbandona mai perché è, come è stato giustamente detto, un riferimento scientifico ma anche un riferimento di vita delle società. Il trentatresimo congresso indica una società scientifica italiana solida, forte e radicata nelle nostre università. 415 partecipanti, se ricordo bene, è un numero molto alto ed è l'altro elemento che vuol dire che è una disciplina che cammina, che va avanti, che continua a essere attrattiva per le nuove relazioni e per chi appunto partecipa alla vita nelle nostre università. L'altro elemento che mi piace ricordare, ringrazio i due dipartimenti direttamente coinvolti, il Dipartimento di Scienze Storiche e Geografiche dell'Antichità e il Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale. Questo ci dà un'immediata immagine di una disciplina, come ha ricordato Marina con i suoi nodi, una disciplina multidisciplinare, una disciplina che affronta con tutte le tecnologie a disposizione, con tutti, anche gli approcci metodologici radicalmente diversi, però affronta una gamma di temi e di problemi della società moderna molto ampia. E se due sono i dipartimenti coinvolti non ci dimentichiamo che c'è la geologia, che ci sono le scienze chimiche, che ci sono, ha citato Marina, i droni e le nuove tecnologie. È una disciplina saldamente radicata e fortemente multidisciplinare. Noi siamo appassionati al tema della multidisciplinarietà, la nostra, il motto della nostra università, di cui ricordo anch'io l'emozionante anniversario dell'anno prossimo, è Universi Versi Spattavina e Libertas. Tutti i saperi e tutti i saperi sono importanti e tutti i saperi oggi collaborano sempre più. Quindi sono veramente felice che i nostri colleghi geografi abbiano voluto organizzare questo convegno. Sono grato a voi per aver partecipato, ovviamente con rammarico di non incontrarvi e di non vedervi di persona. Però abbiamo passato due anni veramente terribili, due anni nei quali anche il fatto stesso di continuare a svolgere attività scientifica, continuare a incontrarsi magari per via telematica, è un segno di resistenza, tenacia, fiducia nella scienza. Quindi con questo guardiamo avanti. Guardiamo avanti anche ricordando che un aspetto che anche, credo, ma sicuramente lo affronterete, anche la visione della geografia probabilmente è cambiata. Se la geografia ha incorporato in questi anni l'antropizzazione, il climate change, i cambiamenti della geografia fisica, come è stato detto, la sociologia, i movimenti delle persone, sempre più radicate nella vita della società, oggi la pandemia ci ha raccontato da una parte la creazione di barriere terribili che ci impediscono a spostarci e che mostrano come i virus si muovono molto più velocemente di noi. Dall'altra però l'idea che le barriere devono essere sempre più piccole, perché l'unico modo che abbiamo per essere tenaci e resistenti è quella di vincere le barriere, lavorare tutti assieme, perché solamente tutti assieme, e lasciatemelo dire perché è un tema di questi giorni, con la consapevolezza e la collaborazione di tutti senza egoismi si può uscire da questa terribile pandemia. Quindi grazie ancora, grazie a tutti voi per essere appunto virtualmente nostri ospiti e buon lavoro per questo interessante convegno. Grazie magnifico rettore, grazie per essere stato presente e aver dedicato qualche minuto nelle tue giornate di questi tempi particolarmente concitate, siamo perfettamente consapevoli, quindi la presenza è ancora più gradita e apprezzata. Grazie a voi. Bene, passerei la parola ora ai direttori dei dipartimenti coinvolti nell'organizzazione del congresso, partirei dal direttore del nostro dipartimento, il professor Gianluigi Baldo, al quale parola. Grazie Marina, grazie per il tuo invito a portare il saluto a questo convegno, grazie anche al magnifico rettore per le parole che ha rivolto al nostro dipartimento, è davvero per me un grande onore portare il saluto mio e del dipartimento che dirigo a questo trentatresimo congresso geografico italiano, è un numero su cui ovviamente noi tutti soffermiamo la nostra ammirata attenzione, come il professor Rizzuto ha appena detto. La geografia è una disciplina cardine della nostra contemporaneità, una contemporaneità contrassegnata da contraddizioni, da ambiguità, da fatiche, da sofferenze impensabili fino a tempo fa e quindi proprio per questa contraddittorietà attende nuovi strumenti interpretativi. È stato ricordato più volte in chi mi ha preceduto, ma basterebbe citare solo l'impatto ambientale che è destinato a occupare nelle nostre vite quotidiane un posto così drammatico, oserei dire, nella nostra quotidianità, in modo drammaticamente inedito direi, da far capire immediatamente anche alla persona comune quanto una disciplina geografica quale è intesa nel vostro lavoro è destinata a occupare, è destinata a rivestire. Questo ruolo di protagonista che la geografia disciplina inter e multidisciplinare, come ha ricordato il rettore, questo ruolo di protagonista che la disciplina geografica occupa nella contemporaneità è di per sé un documento di quale ruolo possa rivestire in un dipartimento come il nostro, un dipartimento che è per vocazione interdisciplinare, un dipartimento che vede insieme, uniti insieme, geografi storici, studiosi del mondo antico, può sembrare questa giusta posizione determinata da logiche burocratiche legate alla dipartimentazione che i colleghi conoscono bene, ma che in realtà via via ci ha tutti coinvolto in un appassionante, appassionato progetto di sviluppo del dipartimento stesso, in quest'ottica interdisciplinare, che mi piace sempre ricordarlo come diceva Roland Bard, deve essere vissuto non come mera accostamento, giusta posizione di disciplina, l'interdisciplinità non è questo, l'interdisciplinità è mettersi a lavorare con strumenti diversi per individuare e creare un oggetto nuovo, un oggetto di sapere e dei saperi nuovi e questo oggetto nuovo è la contemporaneità appunto con le sue contraddizioni del tutto impensabili fino a qualche tempo fa. L'innovazione è dialogo, è incontro, è movimento di idee, di persone, di cose, di libri anche, permettetemi di soleniarlo come filologo e Marina ricordava giustamente il progetto di eccellenza che ci ha impegnato in questi anni, un progetto che si intitola appunto Mobility and Humanities e che intende studiare il movimento delle entità, delle realtà che ho appena citato, nel tempo e nello spazio. È chiaro quindi che noi ci auguriamo questo percorso fatto in questi anni possa rifluire e essere d'aiuto anche nella vostra riflessione nel lavoro scientifico, ma sono convinto che dal vostro lavoro può venire anche un contributo decisivo per il nostro percorso dipartimentale futuro, per il percorso dipartimentale che ci attende. Del resto basta scorrere il programma ricchissimo di questo convegno, veramente impressionante. La multidisciplinarità che oggi caratterizza, contraddistingue la geografia, una geografia che è, diciamo, impensabilmente più ricca, poliedrica e creativa di quanto i nostri ricordi scolastici possano rappresentare alla nostra memoria. Un programma ricchissimo per il quale non posso che ringraziare voi tutti e in modo particolare i colleghi geografi del Dipartimento e in modo particolare, ancora più particolare, Marina Bertonci, che ovviamente ha ringraziato generosamente tutti, ma alla quale va in primo luogo la nostra riconoscenza per la dedizione con cui ha seguito questo convegno, ma direi tutta l'attività dei geografi in questi anni di mia direzione. Concludo quindi augurandovi buon lavoro nella certezza che le nuove mappature dei territori, dei nostri territori, dei territori su cui le nostre vite campeggiano, certo che le mappature che voi compirete porteranno un contributo decisivo, contributo decisivo alla scienza che consegnerete alle nuove generazioni di studiosi, ma lasciatemi dire un contributo per la società tutta che in questo momento ne ha tanto bisogno in quell'ottica di public engagement che l'università oggi ritiene essere una delle sue missioni fondamentali. I miei auguri più affettuosi, più sentiti e riconoscenti di buon lavoro. Grazie Gianluigi, grazie per le tue parole, grazie per i ringraziamenti rivolti a tutti noi, ma in particolare ci fa particolarmente piacere. Diamo la parola ora al collega, professore Massimo De Marchi, che interviene a nome del direttore del suo dipartimento. Grazie Marina, grazie a tutti. Io porto il saluto del direttore che mi ha inviato questo messaggio, che adesso vi leggerò, che non può partecipare per una sovrapposizione di impegni nell'ultimo momento e anche la scusa del vice direttore, che purtroppo per problemi personali non può essere qui oggi. Quindi faccio il messaggero e vi condivido quanto avrebbero voluto dire loro. Allora, il professor Pellegrino ci dice «Sono contento e siamo contenti di avervi tutti qui. Ed è un bel momento di ricerca, ma anche di festa, capace di dar senso al lavoro dei mesi scorsi, che ha visto i due dipartimenti che ospitano le geografe e i geografi padovani in un ulteriore consolidamento di comuni attività». Siamo partiti con largo anticipo pensando ad un congresso in presenza che nello spirito del campus diffuso dell'Ateneo di Padova si sarebbe tenuto nei due poli, il Centro Storico Polio delle Scienze Umane e il Portello Polo delle Scienze della Psicologia e dell'Ingegneria. Come dice, avevamo predisposto il settecentesco palazzetto di costruzioni marittime per ospitare il nodo 5, strumenti, tecnologie e dati. Ci piaceva pensare di ospitare i partecipanti in questa parte di città che mostra l'anima fluviale di Padova, le connessioni secolari con la Repubblica di Venezia ancorate nella vitalità del suo porto fluviale, che tuttora permane. Per il Re di Cronaca, abbiamo organizzato il congresso online, forse evitando di dover risolvere il rebus su chi debba controllare i Green Pass. Ma insomma, siamo qui. Ci saranno le escursioni e sarà una bella occasione per un incontro personale tra chi parteciperà. Il Dipartimento di Ingegneria Civile e Dile Ambientale è una delle istituzioni leader in Italia per la ricerca nell'ambito delle discipline dell'ingegneria civile e dile ambientale, con una particolare attenzione però agli aspetti interdisciplinari e applicazioni in campi diversi da quelli classici dell'ingegneria civile e dile ambientale. Il territorio rappresenta per il DICEA l'elemento di incontro tra le attività di ricerca, didattica e di terza missione nel dialogo tra discipline. Collaborando all'organizzazione del 33esimo congresso geografico, Geografia e Movimento, mettiamo in atto lo spirito del nostro Dipartimento di andare oltre gli ambiti classici dell'ingegneria e, verso la geografia, raccogliere la sfida epocale e transdisciplinare della sostenibilità territoriale. Potremmo sintetizzare questa sfida nel ritenire, in una prospettiva di sostenibilità e giustizia climatica, le logiche del muoversi e dell'abitare. Il messaggio di fondo per il prossimo decennio e oltre è quello di avviare processi di pianificazione territoriale e dei trasporti strettamente coordinate. Penso ad alcuni obiettivi convisi, almeno nel nostro ambito di ricerca e nel nostro Dipartimento. Accelerare l'impegno per territori ad emissioni zero attraverso l'integrazione della pianificazione territoriale dei trasporti, ridefinire la porzione e la proporzione tra le diverse modalità di trasporto delle merci e dei passeggeri, sia nei contesti urbani e nelle lunghe percorrenze, diffondere gli impegni dei diversi attori pubblici e privati per una transizione energetica accelerata e di qualità. E guardo con interesse alle riflessioni che arrivano dalle colleghe e colleghi geografi riuniti in questo congresso per tre giornate di lavoro. Conosco il contributo che la geografia svolge nel nostro Ateneo e nei due dipartimenti, presso il DICEA con un museo di geografia, due lauree magistrali, il centro di ricerca in Mobility and Humanities, il dottorato di ricerca, un laboratorio in GIS, e presso il DICEA con un master di secondo livello in GIS Science, un master internazionale sulle tematiche del cambiamento climatico, una laurea magistrale internazionale in lingua inglese e spagnolo sui temi dello sviluppo territoriale sostenibile e della cooperazione, il centro di eccellenza Jean Monnet sulla giustizia climatica, il laboratorio sulla GIS Science e i droni. Voglio ricordare un paio di esempi di interdisciplinarietà non solo narrate, ma che abbiamo messo in campo nella collaborazione tra il Dipartimento di GISGEA e DICEA con il Ponte della Geografia. Partiamo dalla più recente laurea magistrale in Scienze per il Paesaggio, costruita in maniera partecipata e coordinata dal DICEA e che vede il DICEA contribuire non solo con la componente geografica, ma con l'urbanistica, la composizione architettonica urbana, il disegno e con il BIM, per esempio. Una collaborazione più consolidata che parte nel 2015 nel master di secondo livello in GIS Science, che coinvolge cinque dipartimenti, ma che ha nell'asse, diciamo, padovano tra GISGEA e DICEA alcuni punti di riferimento anche sui temi della mobilità. penso all'insegnamento che è all'interno di questo master su mobilità e trasporti, qualità dell'informazione e qualità delle decisioni. Vedo quotidianamente la geografia viva, dinamica attiva nei nostri dipartimenti e nel nostro Ateneo e mi immagino scienze in movimento negli Atenei del nostro Paese. Quindi un buon lavoro a tutti e a tutte per questo 33esimo congresso geografico. Grazie Massimo. Bene, adesso è con grande piacere che do la parola al presidente della GEI e il collega, il professor Andrea Riggio. Eccomi Marina, grazie, veramente grazie alle autorità accademiche. a te rivolgerò un ringraziamento più avanti particolare per aver accolto a ridosso dell'ottocentesimo dalla fondazione dell'Università di Pato la manifestazione più importante dei geografi italiani. Grazie anche al Rettore Rizzuto, ai direttori Baldo e poi tramite Massimo De Marchi al direttore Pellegrino per queste belle considerazioni che tutti hanno fatto sull'apporto della geografia, su questa disciplina fondativa della cultura europea. Ecco, per spiegare ai non geografi e ai geografi più giovani cosa rappresenta questo convegno, basterà dire che quello che già in parte è stato detto da chi mi ha preceduto e cioè che anche il congresso geografico italiano che si svolge ogni quattro anni ha una lunga storia che certamente non risale al Medioevo come nel caso dell'Università Patavina ma se rapportata all'avvento delle società scientifiche disciplinari nel mondo europeo che è un fatto ottocentesco è anche quella del congresso geografico italiano è una lunga storia che con quello che si apre oggi il trentatreesimo prosegue un percorso che inizia nel 1892 e che quindi nei prossimi mesi quando Marina e il suo gruppo staranno lavorando per la pubblicazione degli atti raggiungerà il centotrentesimo anniversario. Come ha giustamente osservato la professoressa Bertoncin con il suo riferimento al congresso geografico del 1954 in Veneto attraverso la lettura degli atti dei congressi geografici italiani si comprende quanto siano cambiati l'organizzazione del territorio nel tempo e nello stesso tempo i modi di studiarla se ne sono resi hanno fatto riferimento anche i colleghi non geografi che mi hanno preceduto e quindi quanto sia cambiata la geografia nel suo costante sforzo di affinare i suoi modelli le metodologie e gli strumenti per lo studio dei processi di territorializzazione e oggi maggiormente di riteriorializzazione dello spazio ecco questo secondo me è dovuto al fatto che al congresso geografico italiano partecipi da sempre tutta la geografia italiana come mostra appunto il dato degli iscritti già riportato dagli altri 415 che se lo rapportiamo a i 300 geografi universitari incardinati e agli stessi iscritti dell'associazione dei geografi italiani cioè quell'associazione a cui possono iscriversi i professori universitari che è un dato intorno ai 350 iscritti è un dato veramente rilevante qui ci sono veramente tutti i geografi italiani e ci sono da 130 anni e sempre per comprendere la rilevanza di questo convegno non è un caso che una delle prime iniziative di digitalizzazione del sapere geografico in Italia risalga al 1992 allorché il mio predecessore Alberto Di Blasi mise in un cd distribuito poi a tutti i geografi l'indice degli iscritti proprio l'indice degli iscritti pubblicati negli atti dei congressi geografici italiani dal 1892 al 1992 allora erano circa 1700 con il 33esimo diventeranno circa 2700 e i precedenti indici quelli ovviamente cartacei la novità era stata la digitalizzazione ma la centralità del congresso è dimostrata dal fatto che erano stati fatti anche degli indici di precedenza cartacei ed erano stati realizzati da Elio Migliorini già citato da Marina nel 1934 e da Luigi Cardi nel 1982 ancora l'associazione dei geografi italiani che io ho l'onore di presiedere ha nei suoi compiti statutari all'articolo 2 l'articolo 2 lo sapete degli statuti riassume sempre i compiti principali di un sodalizio ha tra i suoi compiti statutari l'articolo 2 l'organizzazione ogni 4 anni dei congressi geografici italiani che vengono affidati a un comitato ordinatore facente capo a uno degli atenei italiani coordinato in questo caso da Marina Bertoncini la nostra vicepresidente Agei con delega alle manifestazioni scientifiche ecco questo riferimento allo statuto serve per ricordarmi che in qualità di presidente Agei io devo subito svolgere il mio secondo compito odierno dopo quello dei sputi difatti il regolamento dell'Agei prevede che il giorno dell'apertura dei lavori congressuali sia nominato presidente del congresso geografico colui o lei che ha coordinato il comitato ordinatore a cui si deve l'ideazione scientifica del congresso quindi cara Marina con grande piacere ti nomino ufficialmente presidente del 33esimo congresso geografico italiano rallegramenti a te e un grande ringraziamento dell'Agei all'intero gruppo dei geografi paduani che hanno lavorato sotto la tua sapiente guida Marina quanto lavoro e quanta passione hai messo in questa iniziativa se nei prossimi giorni se ti riposi un paio di giorni ti capiterà di dare un'occhiata ai nomi di chi ti ha preceduto in questo ruolo nei 130 anni precedenti e beh avrai motivo di essere ripagata per lo sforzo compiuto il rapporto tra l'Agei e il congresso geografico italiano mi consente di fare come presidente di questa associazione un ragionamento di politica universitaria anche la politica Agei si è sempre palesata e riflessa in questa manifestazione avete appena ascoltato direttamente dalla professoressa Bertolcin l'impianto generale del congresso e gli aspetti innovativi introdotti sono veramente tanti inediti come diceva lei essi si inseriscono perfettamente in tre pilastri nuovi della politica Agei in tema di manifestazioni scientifiche la call for session introdotta dopo il 2013 sono 38 le sessioni mi pare l'open access la casa editrice Agei diretta da Franco Farinelli e Geotema la nostra rivista di fascia A sono open access e l'adozione di criteri internazionali e comunitari io insisto su questo secondo attributo di referaggio e di valutazione seguiti nella selezione dei lavori presentati a seguito della corporate abstract certo la Agei oltre all'innovazione rappresenta anche e mantiene un forte legame con la tradizione e la tradizione nei congressi geografici italiani erano le relazioni generali le comunicazioni le discussioni le mostre le escursioni il congresso geografico di Padua del 1954 ad esempio a cui è fatto già riferimento sempre la stessa Marina e il pregio di superare il vecchio impianto che portava a una certa dispersione di argomenti introducendo dei temi specifici organizzati in sezioni di nuovo nel 2021 gli organizzatori apportano le altre innovazioni riferite da Marina Bertolcini io Marina ne sottolineo un'altra la scelta ponderata del comitato ordinatore scientifico di ripensare migliorandola la stessa call for session introdotta nel 2013 che aveva involontariamente portato a una certa proliferazione dispersione dei temi discussi ecco utilizzando la struttura e direi il metodo dei cinque nodi tematici si è ottenuta una riduzione del numero delle sessioni rispetto ai congressi precedenti senza però attenzione limitare quell'organizzazione dal basso la call for session utile per favorire la trasmissione delle nuove tendenze emergenti nella geografia italiana l'altra cosa che vorrei sottolineare anch'io è stato fatto già non solo da Marina ma anche dai colleghi che mi hanno preceduto è il ritorno della centralità delle escursioni geografiche interuniversitarie che aveva perso forza per motivi anche di ordine pratico negli ultimi due decenni ecco anche qui è utile ricordare che la prima escursione geografica interuniversitaria si svolse nel 1926 con un itinerario da Ravenna alla laguna veneziana io auspico che questo ritorno alle escursioni lunghe con un programma fittissimo estremamente specialistico sia raccolto dagli organizzatori prossime manifestazioni a GEE questo puntare decisamente alle escursioni è un richiamo esplicito all'importanza della ricerca e della didattica sul campo qui è stato possibile qui a Padova è stato possibile perché la scuola padovana è sempre stata all'avanguardia nella ricerca sul terreno negli ultimi anni in particolare sta contribuendo con altri poli certamente al suo rinnovamento attraverso l'introduzione delle geotecnologie dai droni alle app geografiche con i GIS partecipativi o altri strumenti preparatori all'escursione sul terreno come i big data che ci consentono di individuare attraverso lo studio degli spostamenti dei city users i nuovi luoghi pubblici della modernità o ancora ricorrendo ad altri metodi come l'uso della cartografia partecipativa per restituire i risultati della ricerca sul campo rivolta alla governance territoriale l'aver inserito poi dei giovani geografi nei board che hanno gestito i nodi facendoli quindi partecipare anche alla valutazione degli abstract pervenuti mi è sembrato un segnale forte di ascolto e di profondo rispetto per questa componente della geografia accademica spesso costretta per molti anni a lavorare in condizioni precarie e di incertezza si arriva oggi facilmente l'abbiamo studiato recentemente a 15 anni di precariato in Italia e considerando che questa componente oggi comprende circa un quarto dei geografi universitari quindi un segnale forte e che sottolineo veramente con forza anch'io concludo il mio saluto con riferimento alle tematiche che saranno al centro del congresso formulando un auspicio e una sottolineatura i geografi italiani tornano a Padova dopo le bellissime giornate della geografia del 2018 dedicate alla public geography per affrontare un altro tema strategico quello della mobilità e del movimento nel processo di globalizzazione intesi nelle loro declinazioni più recenti e più ampie come è stato sottolineato ecco il primo auspicio è che tutti i geografi che si occupano di mobilità contribuiscano con le loro ricerche con le loro rappresentazioni cartografiche con le loro esperienze di analisi di terreno a dare forza all'ancora fragile governance mondiale delle migrazioni avviata un percorso più strutturato con gli accordi di Marrakesh del 2018 del Global Compact questa è un'altra delle vere sfide del ventunesimo secolo paragonabile per importanza alla lotta e all'adattamento ai cambiamenti climatici con la transizione energetica territoriale citata dal direttore di ingegneria e al raggiungimento degli obiettivi dell'agenda 20-30 per la transizione alla sostenibilità l'importante è sempre fare tanta ricerca di dati e trasferimento delle conoscenze su questo tema per quello che conta la mia posizione nota la governance mondiale delle migrazioni deve partire dal riconoscimento delle migrazioni come bene pubblico mondiale la sottolineatura finale è che la lettura del programma degli obiettivi dei noti tematici e del book degli abstract del congresso che è scaricabile dal sito del congresso geografico stesso facilmente prevedere che l'ascolto dei relatori mostrerà che la nostra disciplina sta affinando le sue metodologie i suoi strumenti per lo studio della mobilità e delle geografie di movimento nella network society e tutto questo consentirà anche di produrre nuove visioni e forse anche un ripensamento sul nostro modo di abitare il pianeta adesso che mobilità reticolarità e prossimità del vivere urbanizzato mostrano evidenti fragilità grazie agli oltre 400 iscritti agli enti e alle associazioni che hanno dato il loro patrocinio grazie ai relatori italiani e stranieri grazie ai presenti e l'augurio di buon trentatresimo congresso geografico italiano a tutte e a tutti da parte dell'associazione dei geografi italiani grazie grazie Andrea sono personalmente molto onorata delle tue parole che chiudono nel migliore dei modi possibili gli anni di direttiva che abbiamo trascorso con la tua presidenza grazie davvero e sono davvero riconoscente sicuramente a nome di tutti i colleghi padovani per la disponibilità che la GEI ha dimostrato nei confronti della nostra sede soprattutto in questi mesi di difficile costruzione e coordinamento di questo congresso davvero grazie abbiamo fatto veramente molto poco perché voi siete un gruppo eccezionale complimenti per il vostro lavoro adesso passiamo la parola siamo perfettamente nei tempi passiamo la parola al collega professor Riccardo Morri coordinatore per il 2021 del SOGEI ricordo per esteso il coordinamento dei sodalizi geografici italiani che come detto prima riunisce le più importanti associazioni e società scientifiche attive in Italia in ambito geografico Riccardo Morri a te la parola grazie grazie presidente grazie a tutti per l'invito è chiaramente per me è un grandissimo piacere e un privilegio sul piano personale poter riunire i ringraziamenti a tutte le colleghe a tutti i colleghi del comitato scientifico e ordinatore per il grandissimo lavoro svolto e augurare naturalmente alle studiosi di geografia scritte al convegno gli auguri di un buon lavoro il SOGEI appunto è un coordinamento informale e questa è la sua prima apparizione in un congresso geografico italiano quindi ci è sembrato doveroso ricordare che appunto con la sua costituzione nel febbraio del 2018 presso i locali dell'ex istituto di geografia la sapienza di Roma si è voluta istituzionalizzare una prassi di costante consultazioni di continuo raccordo e di sistematica sinergia fortemente ricercata e voluta già da Gino De Vecchis da Franco Farinelli da Lidia Scarpelli e da Franco Salvatore tra appunto le principali per storia per tradizione per numero di soci per capacità di impatto e di mobilitazione nelle istituzioni e presso la società civile delle principali associazioni geografiche dando a questa fattiva collaborazione quel carattere di continuità che riteniamo tutti ancora sia centrale ed importante sulla base di un meccanismo di rotazione annuale ad assicurare l'adeguata rappresentanza a tutte le componenti presenti nel SOGEI nel 2018 proprio il presidente della GEI Andrea Riggio ne ha assunto il coordinamento e considerando appunto la necessità di dare continuità all'azione di questo organismo neonato ha tenuto il coordinamento fino al 2020 è stata poi eletta Carla Masetti in qualità di coordinatrice del CISGE e dal dicembre del 2020 ho l'onore ma soprattutto l'onore di svolgere appunto questa azione di coordinamento che passerà poi tra dicembre e gennaio 2021 a uno dei presidenti della società geografia italiana della società di studi geografici o dell'associazione italiana di cartografia che ancora non hanno avuto questo ruolo e naturalmente saremo felici e brevi di accogliere quello che sarà il nuovo o la nuova presidente che il neoletto comitato direttivo della GEI vorrà esprimere e di accogliere quello che ci preme sottolineare quindi è che il soggetto non è una sovrastruttura che si aggiunge ai soggetti esistenti per condizionarli o limitarne l'operato è un luogo di confronto e di riflessione collettiva che cerca di valorizzare al massimo l'esercizio della delega di rappresentanza è fidati alla coordinatrice e ai presidenti dei sodalizi ogni incontro e le consultazioni che lo seguono o lo precedono si svolge in una condizione di assoluta parità e su base pariterica nella convinzione condivisa che non debbano essere i ruoli a determinare le persone ma è che è utile e sarebbe in realtà sempre necessario che succeda invece il contrario in questo clima e con tale spirito il soggetti si è attivato per aprire uno spazio di discussione per raccogliere i contributi di geografi e geografi nell'immediatezza del manifestarsi degli effetti della pandemia organizzando e animando il terapie del 2020 in pieno lockdown nel giorno in cui avrebbero dovuto avere luogo i tanti eventi previsti per la notte europea della geografia il webinar questa terra questo virus fare pensare e insegnare di geografia di fatto la prima occasione in cui come comunità di studiosi e di studiosi di geografia ci siamo inseriti nel discorso pubblico intorno alla pandemia seguita poi da tante lodevoli iniziative su più campi che hanno visto ricercatrici e ricercatori italiani oggi dei molti delle quali iscritte appunto al congresso geografico italiano attivamente impegnate per la comprensione delle cause e per la gestione degli impatti territoriali della pandemia in Italia e all'estero valorizzando lo specifico del sapere geografico e della ricerca geografica italiana in una dimensione interdisciplinare e sovranazionale partendo dalla consapevolezza che proprio in quanto geografe e geografici è impossibile rinunciare alla ricchezza che deriva dal contributo che alle diverse scale i singoli contesti di studio di ricerca e di formazione sono capaci di restituire a livello locale nazionale e internazionale e dalla necessità quindi di lavorare per uno sviluppo che sia di sistema e non preveda la mortificazione o il mancato riconoscimento di anche uno solo di questi livelli nel corso del 2021 ci siamo impegnati nell'organizzazione del convegno orientare chi fa geografia funzione comunitaria e pratica della valutazione nella geografia italiana svoltosi a giugno che ha preso la partecipazione in società geografica italiana e da remoto di circa i due terzi della geografia accademica italiana gli esini di questo incontro ci tengo ad aggiornarvi approfittando della platea del congresso sono materia di lavoro per un gruppo di studio cui è stato affidato il compito di redigere la bozza di un primo documento che ci auguriamo che entro la fine del 2021 possa essere di nuovo discusso pubblicamente per arrivare poi in tempi ragionevolmente brevi a una formulazione il più possibile condivisa ma scevra ogni tentazione di ecumenismo al di là di ogni fallace e preduestosa gradatoria forse più adatta a competizioni sportive come il recento campionato europeo o le olimpiade che pure ci hanno visto primaggiare la geografia italiana è viva e attiva infatti nei diversi contesti provane sia la presenza ai vertici di istituzione come l'Unione Geografica Internazionale o l'Associazione delle Società Geografiche Europee di Geografi e Geografi Incardinati Italiani il coordinamento affidato alla GED l'edizione 2021 della Notte Internazionale della Geografia che ricordiamo ha avuto respiro globale o l'affidamento all'Associazione Italiana di Cartografia dell'organizzazione della trentesima Conferenza Internazionale di Cartografia che si terrà a Firenze dal 14 al 18 dicembre 2021 con validissime colleghe e collettivamente impegnati per quella che sarà l'ottima riuscita di questa manifestazione una vitalità che trova un importante riscontro e confortante conferma anche da altri due punti di vista il rientro in Italia di alcune ricercatrici e ricercatori italiani precedentemente impegnati all'estero cui penso l'ingresso geografico italiano sia l'occasione migliore per dare il benvenuto o il bentornato queste sono operazioni che attestano la capacità della geografia italiana di formare eccellenza in grado di farsi apprezzare anche all'estero e testimoniano il grande impegno e il significativo lavoro svolto da alcune sedi italiane negli ultimi anni per assicurare la qualità della ricerca e di insegnamento molto spesso proprio grazie all'impiego allo sforzo di quei precari che giustamente ricordava Andrea Riggio come presidente della GEI grazie ai quali è possibile creare le condizioni per attivare le nuove posizioni dall'altro punto di vista l'apertura numerosa rispetto al precedente congresso geografico italiano di nuovi corsi di laurea in geografia in particolare magistrale ma anche triennali con una crescita di immatricolazioni nel complesso ottima e in alcuni casi esponenziali come per la triennale di Roma Sapienza la magistrale di Bologna e naturalmente la neonata magistrale di Padova che essendo al suo battesimo ha avuto dei risultati in termini di immatricolazione veramente lusingieri questo è un movimento collettivo di grande importanza e significata affinché gli avanzamenti nelle pratiche di ricerca e nei metodi di insegnamento che saranno presentati e discussi durante il congresso di cui tutti noi faremo certamente tesoro trovino poi un riconoscimento e un loro campo di applicazione sempre più ampio e più avvertito nella società civile e presso le istituzioni riducendo progressivamente il cronico gap di una disciplina che come è stato giustamente ricordato proprio dalla professoressa Bertoncini del professor Riggio ha ormai alle sue spalle più di 150 anni di istituzionalizzazione nel mondo accademico ed è un gap che però non riesce ancora a fermare sul piano della legittimazione sociale e se c'è un contesto o un momento dove questo movimento può avere un'ulteriore spinta propulsiva questo è storicamente proprio il congresso geografico italiano in una sede come quella di Padova dove appunto proprio come ricordava il professor Riggio la GEI pose lucidamente qualche anno al centro della discussione pubblica la funzione sociale della ricerca e dell'insegnamento della geografia nell'università italiana e dove oggi è attivo il primo museo di geografia in Italia è uno tra i pochissimi al mondo il che non significa che non c'è bisogno di musei di geografia ma semplicemente che come noi siamo disposti attenti a imparare dagli altri in questo caso verranno gli altri a doversi posizionare e a ispirarsi rispetto a quello che oggettivamente è per la geografia italiana un risultato di eccellenza io ringrazio ancora moltissimo le preghe e i colleghi del comitato scientifico e ordinatore e chiaramente il presidente della GEI rinnovo i saluti da parte delle colleghe e dei colleghi presidenti dei socializi geografici italiani e auguro veramente a tutti buon lavoro grazie Riccardo grazie per aver fatto questo punto molto forte molto competente molto preciso sull'attualità della geografia e adesso ci porta è un richiamo forte a entrare nel vivo del congresso do quindi la parola alle colleghe professoressa Cararabiosi e professoressa Giada Petterle che introducono gli interventi dei due keynote speakers e coordinano la discussione a valle degli interventi Chiara e Giada se volete prendere la parola bene innanzitutto benvenute e benvenuti e mi accodo alla professoressa Bertoncin nel ringraziare tutti coloro che sono qui in questo momento e tutti coloro che ci hanno sostenuto nell'organizzazione di questa edizione del congresso geografico italiano scuserete me la mia collega Giada Petterle se tra qualche secondo passeremo all'uso di un'altra lingua per motivi tecnici dovuti al sistema di traduzione e informo che per chi volesse usufruire del servizio di interpretariato dall'inglese all'italiano è possibile farlo cliccando sull'apposita icona che dovrebbe essere in basso a destra sul vostro schermo e quindi ecco tra pochissimi secondi passerò da una lingua all'altra anche per essere più accogliente nei confronti dei nostri ospiti internazionali avviso che finiti le presentazioni dei nostri ospiti e le keynote speech potrete porre delle domande chi vuole potrà farlo in italiano scrivendole direttamente nella chat di zoom e poi saranno tradotte in inglese oppure vi chiediamo di prenotarvi sempre nella chat per prendere la parola direttamente in lingua so here we are and I am particularly thrilled molto emozionata di presiedere insieme alla mia collegiata il discorso di apertura del 38esimo congresso geografico italiano iniziando da questo discorso questo congresso vorrebbe contribuire al scambio sulla generazione e la comunità accademica geoculturale e incontro si spera benvenuti ai nostri ospiti Kaya Barry e David Bissell Kaya è un ricercatore australiano artista che si è spostato trasferito in Europa recentemente è stato ricercatore lettore all'università di Griffith ha fatto parte del dipartimento di cultura e apprendimento all'università di Holborg a Copeneghe in Danimarca si è spostato in Europa alcuni mesi fa e si è occupato della emigrazione del turismo e dei loro intrecci per lungo tempo Kaya è autore di pressi quotidiani di mobilità del turismo pubblicato nel 2018 da Rolstead è autore di misure creative dell'antropocene arte mobilità e geografie partecipative pubblicata nel 2019 è anche editore di collezioni su della clima spazi mobilità e affetti insieme a Maria Brovnik pubblicato nel 2020 e anche coeditore dell'enciclopedia delle mobilità pubblicato che sarà pubblicato nel 2022 nonostante la giovane età Kaya ha contribuito significativamente alla geografia umana sottolineando l'importanza del dialogo transculturale con l'arte e la scienza e altre scienze sociali e l'umanità e la sua ricerca può essere vista come un modo per dimostrare la capacità di una prassi creativa per creare un spazio più inclusivo di conoscenza molto necessario per rispondere alle sfide globali come la sostenibilità il cambiamento climatico e l'inclusione sociale Kaya condividerà questo discorso di introduttivo sulle geografie mobile future grazie Chiara grazie a tutti per essere qui questo pomeriggio in particolare ai colleghi italiani e agli ospiti internazionali Kaya Barry e il nostro altro ospite David Bissett sono delle voci chiave del dibattito internazionale sulla mobilità e siamo onorati di ospitarli con noi oggi al nostro congresso è stato lettore nella geografia umana all'università di Brighton all'università nazionale australiana David Bissett attualmente è professore associato e membro del consiglio di ricerca australiano nella scuola di geografia dell'università di Melbourne e è editore di social and cultural geography ed è parte delle redazioni di diversi giornali sugli studi di mobilità la sua voce originale è stata una presenza geografica stabile nel dibattito corrente sulle vite mobili e soggetti le prassi e i metodi come autore della monografia Transit Life come comunicare sta trasformando le nostre città si fa un'esplorazione dei modi della vita quotidiana nella città e vengono inoltre esplorati nella manuale di mobilità una serie di aspetti sociali e politici e inoltre coeditore della recente collezione Negative Geographies esplorazione nella politica dei limiti come geografo culturale ha esplorato una serie di studi di casi dall'Australia al Giappone Canada e il Regno Unito combinando la ricerca qualitativa e le prassi insieme alla teoria sociale e le implicazioni sociali politiche ed etiche delle vite mobili dei pendolari passeggeri e lavoratori mobili per concludere come viene dimostrato mobilità e immobilità sono sono anche aspetti estetici politici sociali e etici durante la crisi del covid le idee relative alla mobilità e immobilità ci hanno forzato a rimaginare il nostro futuro e la geografia e il futuro della geografia come una disciplina pensando a come al mondo si muoverà e alle sfide dei nostri concetti geografici idee strumenti agenta questi discorsi ci aiuteranno ad affrontare delle questioni su come come comunità come geografi possiamo rispondere a una serie di crisi per andare oltre queste quindi Kai e David prego a voi la parola grazie salve a tutti grazie per averci invitato vorrei dire che lavoriamo con realtà indigene in Australia sul passato presente e futuro grazie agli organizzatori per averci invitato è un onore siamo molto lieti di condividere le nostre idee con voi vorremmo congratularci con gli organizzatori per questo evento straordinario il programma è davvero fantastico ed è un testamento della qualità della ricerca geografica che avviene in Italia e di cui apprenderemo altro ancora quindi abbiamo preparato un discorso di introduzione del lavoro che abbiamo svolto negli ultimi mesi vorrei iniziare appunto con delle immagini questi sono dei aeroporti con dei aerei che sono rimasti a terra in paesi come l'Australia dove il Lactan sono divenuti la quotidianità negli ultimi 18 mesi la pandemia ha immobilizzato i flussi su diverse scale dal punto di vista della logistica e dei flussi dei passeggeri in marzo scorso e i viaggi internazionali hanno subito un drastico rallentamento e questo ha portato a dei cambiamenti ovviamente con la pandemia c'è stata un'immobilizzazione di molti dei nostri flussi quotidiani urbani regionali perché la gente lavorava da casa e questa era la nuova normalità per molti sono sicuramente geografi ad essere nella posizione migliore per parlare di questa nuova situazione di restrizione e immobilità a complemento della vitale risposta di salute pubblica e ricerca medica la ricerca geografica deve aiutarci a dare un senso alle trasformazioni sospaziali che avvengono quello che sta accadendo richiederà del tempo per essere compreso quindi in questa pandemia che ci accompagna da oltre 18 mesi c'è un senso di disorientamento mancanza di radici di essere sicuri di ciò che sentiamo e quello che sta accadendo questi problemi sono profondamente geografici riguardano i nostri rapporti spaziali affettivi ed emotivi lungi dall'essere disabilitante tale confusione potrebbe essere abitante e ci consente di far emergere nuove forme che possono prendere forma vorremmo condividere alcune idee su come la geografia della mobilità è uno strumento essenziale per pensare alla nostra situazione attuale quindi inizieremo parlando del recente passato della disciplina della geografia per spiegare come il pensiero della mobilità si è evoluto negli ultimi vent'anni e poi faremo delle provocazioni per la geografia del nostro presente condivideremo poi come entrambi abbiamo sviluppato queste agende nel nostro lavoro attuale si parlerà di estetica io parlerò dell'immobilità affettiva e poi concluderemo con alcune direzioni del futuro della geografia mobile quindi per iniziare nel nostro senso del tempo della mobilità è stato il cuore pulsante dei nostri mondi di vita la mobilità è un campo che negli ultimi vent'anni ha raggiunto una certa maturità quindi oltre alla pandemia che ci ha spinto a idee sulla mobilità che sono al centro della scena questa è un'opportunità brillante per fare il punto e progettare il futuro da una prospettiva disciplinare quindi la mobilità è un fatto nella vita per molti questa è sottolineata da John Harry che altre 200 anni fa diceva che le persone negli Stati Uniti si spostavano in media di 50 metri al giorno mentre all'inizio del XXI secolo ben 50 chilometri al giorno questo è un aumento sbalorditivo del nostro di quanto viaggiamo quindi rispondendo all'aumento della mobilità in tempi diversi negli ultimi decenni i geografi si sono preoccupati di diverse dimensioni di questo movimento i primi lavori quello di David Harvey sull'intestificazione delle reti di produzione e la globalizzazione hanno sottolineato il fatto della compressione spazio-temporale mentre i geografi umanistici come Ifu Tuan e Edward Ralph hanno entrambi attirato la nostra attenzione su come il movimento stesse dando origine a una serie di cambiamenti nella percezione del luogo e Ralph era particolarmente preoccupato di come la mobilità stesse erodendo la specificità del luogo un lavoro più recente nella geografia sociale e culturale ha contrastato questo pessimismo con una visione più affermativa di come la mobilità sia centrale per ciò che rende i luoghi progressivi ed entusiasmanti quindi il lavoro di MS ha sottolineato come la mobilità sia abilitante produttiva nella vita sociale e ha tirato la nostra attenzione critica su come le persone sono diversamente proposizionate in relazione a questi flussi riflettendo sugli ultimi 18 mesi il Covid ha immerso molti di noi in un mondo di mobilità e crisi è diverso da quello che i geografi della mobilità hanno descritto negli ultimi 20 anni la nostra percezione del movimento la scala del movimento sono state drasticamente alterate non troviamo più sicurezza nei presunti confini di mobilità normale o abituale oppure del contatto tra noi reciproco le prassi i significati e gli effetti della mobilità sono cambiati drasticamente per questo è ora di sviluppare nuove idee geografiche dell'immobilità da dove iniziare quindi abbiamo decenni di risorse geografiche a cui attingere crediamo che sia importante anche creare dei resoconti geograficamente situati nella nostra nuova situazione che riguardino il contesto e la provenienza concettuale c'è molto lavoro per nuove idee sulla mobilità da generare al di fuori del mondo accademico c'è un lavoro brillante anche dai geografi italiani per esempio l'eccellente lavoro di Chiara Rabbiosi il lavoro di Giada Paterle sulle mobilità narrative il lavoro di Laura Lopressi di Dragan MEC sulla migrazione e di Tania Rossetto è la nostra speranza che altre ricerche vengano tradotte per resterne nella portata qual è il catalizzatore del nuovo pensiero geografico la pandemia la pandemia sollecita nuove domande sulla mobilità come possiamo usare come opportunità per pensare diversamente il futuro della mobilità come possiamo sviluppare il potenziale pedagogico per le abitudini di mobilità che sono cambiate qui possiamo porci domande sulle gerarchie che la mobilità produce e in che modo queste geografie potrebbero offrire delle vie per fare geografie in modo diverso in particolare laddove le aspettative chiedono molto lavoro sulla mobilità qualcosa di cui ci stiamo occupando proprio in questo momento quindi bisogna lavorare sulle aspettative di mobilità e lavoro sul campo come assicuriamo che la futura ricerca geografica adotti dei metodi alternativi di abitare ricercare insegnare praticare geografia queste sono solo alcune delle questioni che inquadrano nel nostro pensiero quindi nella parte che segue del nostro intervento vogliamo condividere quello che stiamo facendo in termini di geografie mobili nel nostro lavoro l'ultimo anno e mezzo ha rimodellato radicalmente le nostre tolleranze di vicinanza distanza il nostro senso di come abitiamo e ci troviamo nei luoghi l'attenzione alle misure cartografiche spaziali ha tracciato una rinnovata estetica dello spazio e questo è nel modo in cui misure e previsioni sono previste modellate tracciate e seguite l'infodemia dichiarata dall'organizzazione mondiale della sanità ci mostra come una sovrasaturazione della comunicazione che ci sommerge facilmente la modellazione del clima la misurazione dello scioglimento dei ghiacci marini le scale di perdita della biodiversità e così via accanto a quei dispositivi comunicativi ci sono tecniche visive altamente sintonizzate che rappresentano le preoccupazioni spaziali di mobilità posso pensare alle prassi di distanziamento sociale mantenimento dello spazio queste sono performative ma anche visualizzate nelle prassi spaziali e geografiche che ci siamo abituati a vedere come ricercatrice sono interessata all'estetica geografica in particolare come la mobilità viene visualizzata e percepita ho trovato la mia strada nella geografia omana attraverso le arti la mia prima laurea era in arti visive e mi considero tra i geografi che usano la creatività e la prassi artistica come parte centrale dei metodi di ricerca e dei temi di indagine questi cambiamenti che ci spingono ad affrontare questioni globali attraverso istruzioni e incontri molto personali hanno enfatizzato l'importanza dell'estetica e della visualità nell'indagine geografica passiamo ai recenti spostamenti mobili la città in cui vivevo Brisbane l'ho osservata e l'ho vista trasformarsi in un mare di segnaletica ad hoc frecce e barriere con nastro fluorescente che mi istruivano su come muovermi dove so stare cosa toccare non toccare ogni volta che mettevo piede fuori adesivi marcature su percorsi tracciavano le misure richieste tra le persone in Australia 1,5 metri di distanza altrove 2 metri 6 piedi nuove forme di estetica regolano la mobilità nelle aree pubbliche segnalando come stare in piedi attendere fare la coda e avere pazienza dall'inizio dell'anno scorso ho documentato con fotografie note sul campo schizzi artistici e diagrammi queste istruzioni e architetture di mobilità che sono state installate in aree pubbliche mentre questo è stato un progetto secondario basato sulle mie esperienze di dove ho viaggiato e delle cose di cui ero testimone ho accumulato centinaia di schizzi e oltre mille fotografie fino ad oggi questo si inserisce negli aspetti relativi ai diagrammi di mobilità le istruzioni il potere dei metodi visivi nell'articolare complesse manovre spaziali e temporali come molti geografi che stanno rispondendo alla pandemia in modi creativi è importante e urgente fare spazio a cartografie transcalari e transumane di esperienze ed espressioni come descritto in un articolo di Pase e altri mentre queste riflessioni estetiche sui cambiamenti non vogliono essere una posta di soluzioni o come dobbiamo comunicare meglio sono a mio avviso importanti mediazioni che provo che ci portano a riconsiderare le misure geografiche che incontriamo quotidianamente queste direttive su come e dove la mobilità è permessa si basano su presupposti universalizzanti sulla mobilità delle persone sull'uso sociale desiderato dello spazio pubblico queste nuove estetiche creano creano anche un'esclusione ulteriore e il diritto dei corpi che hanno nel stare nel pubblico dove vivo adesso Copenaghen in Danimarca la minaccia e i rischi sono cambiati sono diminuiti ci sono delle istruzioni spaziali che sono meno rigide la segnaletica colorata di parchi di piste metropolitane e supermercati questi cartelli presentano ancora frecce le linee di mobilità ma sono completati adesso da fiori e cartoni animati e toni pastello ora si fondono quindi in un paesaggio turistico che rafforza ancora più le interazioni desiderabili pure questi sono cartelli più amichevoli e a volte impongono una brutalità sui vicoli urbani sulle strade commerciali e suggeriscono una minaccia persistente queste direzioni spaziali e comportamentali sono ancora presenti camminare nella direzione sbagliata o lungo il lato sbagliato di marcia a piede provoca ancora gli sguardi degli altri pedoni che passano o dei bilettai della stazione della metropolitana vediamo dei avvisi di viaggio internazionale codificati a colore i sistemi a semaforo facilitano spettro da gestione buona verde a una cattiva rossa nella pandemia che serve a universalizzare la mobilità dei viaggiatori a rischio questo tipo di estetica colorata è stata incorporata nei controlli di frontiera nelle culture di viaggio e nelle forme quotidiane di mobilità vediamo questa riapertura dei confini vediamo i vaccini che arrivano la ripresa del turismo e gli schemi di migrazione circolare mostrano che le geografie della mobilità sono sono altamente estetizzate e genereranno degli assunti ancora più diseguali e iniqui su chi dovrebbe essere in movimento a livello planetario i nostri paesaggi si stanno trasformando in modo pressante e estetizzato nuove estetiche ecologiche stanno emergendo mentre siamo alle prime con l'antropocene e riscaldamento del clima le ondate di calore vedono cadere i record di temperatura il disagio ecologico dovuto alla siccità il calore e altri estremi climatici vede la vita non umana soffrire e appassire alle nostre porte le precipitazioni nell'artico mostrano lo scioglimento dei ghiacciai vediamo dei colori rosa arancioni degli incendi che stanno devastando i luoghi che non avevamo mai pensato potessero bruciare in Australia nel 2019 abbiamo avuto mesi di fumo e cenere che riempivano l'orizzonte indossavamo maschere in alcuni luoghi per proteggerci dal disagio ecologico dalla polvere dalla cenere sono stati sei mesi prima dell'inizio della pandemia nelle manifestazioni di protesta dove i bambini erano scesi in strada per chiedere il cambiamento le maschere sono state indossate come emblema della necessità di una azione climatica i tramonti nebbiosi hanno trasformato i cieli creoscolari questa è una foto scattata durante un piccolo workshop di geografia culturale io come molti altri ho continuato a scattare foto e a meravigliarmi di questi paesaggi surreali disastrosi prendendo ancora voli per i viaggi per i viaggi di lavoro mentre gli incendi bruciavano e potevo guardarli dall'alto con stupore nell'inquinamento atmosferico degli incendi così denso da battere record globali all'inizio del 2020 la costa orientale dell'Australia ha completato un giro intorno al globo e la segnaletica di emergenza è stata aggiornata per adattarsi a questi nuovi eventi estremi nuovi cartelli sono spuntati in tutto il paesaggio indicando come comportarsi quindi lasciare l'acqua fuori per la fauna selvatica segnalare odori di fumo avvistamente non fumare sigarette vicino agli alberi e poi qualche mese più tardi un nuovo tipo di attenzione rinnovata alla natura ci è stata imposta apprezzare la natura sulla soglia di casa notare i cambiamenti stagionali fare giardinaggio fare bird watching ascoltare il ritmo dei non umani durante il periodo di quiete nelle nostre città questo ritorno la natura come ha glorificato un'estetica naturale ed è stato un sollievo ma l'estetica della crisi ecologica è stata dipinta con un'ampia pennellata dobbiamo essere consapevoli di come e perché queste particolari visualità arrivano ad alleviare e offrire momenti di cura nelle nostre vite sconvolte la nostra presenza e vicinanza accanto ai non umani a tutti i livelli ora prevede per vada i nostri orientamenti come descritto da Searle essere al centro delle cose nel mezzo delle cose in un punto di svolta questo suggerisce anche che si tratta di un portale per riconfigurare il livello dell'umanità in termini quotidiani e geologici qui cerco di inquadrare la mutevole estetica della mobilità dal punto di vista dell'individuo in una crisi su scala umana la pandemia fino alla scala planetaria del cambiamento di cui siamo stati sovrassaturati quindi negoziare queste nuove estetiche è un compito complesso ed emotivo questo ingrandimento delle nostre geografie sia grandi che piccole mette in evidenza le molteplicità di misure che sono necessarie per sentire ascoltare allenarsi con ciò che ci aspetta nelle crisi più grandi che verranno possiamo vedere le tensioni crescenti nel cercare di vivere con questi cambiamenti essere a proprio agio con nuovi livelli di incertezza ma anche c'è ancora l'incoraggiamento di un pubblico che autosorveglia le nuove fotografie sono eseguite su una serie di scale personali collettive sociali ed ecologiche mentre c'è una tendenza a vedere la mobilità più in generale come un risultato dell'emergenza e della governance come dice Ade queste azioni che stiamo vedendo hanno implicazioni a lungo termine man mano che queste procedure di governance spaziale della mobilità verranno accettate e incorporate nella società globale e nella nostra quotidianità i geografi sanno che definire e delimitare lo spazio non è mai una cosa neutrale dobbiamo usare questa opportunità per mettere in discussione il modo in cui le pratiche visive e mobili devono essere esaminate quindi questa tavolozza estetica di mobilità mutevole si è adatta ai recenti commenti sulla creatività in geografia dove Harriet Hawkins descrive una crescente richiesta di pensiero critico sulle relazioni delle prassi creative le esperienze di come uno vede sente la propria strada attraverso il mondo come questi esempi che ho illustrato brevemente sono parte di un vocabolario di una forza crescente in geografia intorno alla visualità all'estetica all'abilità che riuniscono altri modi non testuali e non verbali di fare ricerca geografica le estetiche mutevoli che ho descritto sono lontane dagli incontri prossimali che avevamo sognato nella prima metà del 2020 immaginare un modo di governare il pubblico continuo duratore più e diverso con crisi e disastri ancora più grandi era difficile da comprendere mentre guardavamo fuori dalle nostre finestre il verde e la natura mentre l'impatto socio-spaziale della pandemia sta diventando un terreno di ricerca ben collaudato spero che questa discussione sugli approcci estetici offra la possibilità di pensare a cosa possano significare queste nuove geografie visive della mobilità quindi passo la parola adesso a David grazie quindi prenderò alcuni di questi temi della mobilità in una direzione diversa e completerò quello che ha detto la mia collega a Melbourne ho esplorato come i lavoratori mobili sono diventati essenziali durante la pandemia del covid specialmente durante il lockdown come molte altre parti del mondo i camionisti hanno fatto in modo che gli scaffali fossero pieni i fattorini in bicicletta e motorino portavano i passi alla gente quindi il covid ha intensificato una nuova geometria di potere mobile quindi essere in una posizione di potere relativo dirigendo le mobilità di altri che sono alla merce di piattaforme tecnologiche e queste persone sono molto più a rischio di esposizione del covid quindi la mia ricerca sulla gig economy e su come è cambiato durante il covid continua a alimentare il mio interesse per la mobilità e il futuro del lavoro in un'epoca di cambiamenti tecnologici sono interessato nelle persone che vivono in situazioni di costrizione e di debolezza a causa del movimento quindi pendolari schiacciati da lunghi viaggi verso il lavoro famiglie alienate da un membro della famiglia che lavora lontano da casa spesso per lunghi periodi di tempo e come ho detto questi lavoratori gig che sono la merce delle piattaforme questi sono tutti i modi soggetti mobili a cui è richiesto di essere mobili per il loro sostentamento si tratta di persone che sono mosse da forze più grandi anche se le configurazioni del movimento volontario e dell'essere appunto mossi sono così chiare i geografi hanno prestato molta attenzione all'esplorazione della mobilità a livello macro dello spostamento delle persone sappiamo da dove le persone si muovono e dove vanno quanto spesso e che modalità di trasporto utilizzano si è parlato meno della micro mobilità intensa di questi spostamenti quello che intendo dire è che piuttosto che concentrarsi sulle identità relativamente determinate delle persone delle loro scelte la micro mobilità riguarda il modo di essere in movimento che cambia la capacità delle persone di fare cose e sentire cose la loro capacità di influenzare e essere influenzati e questo è importante perché come dice Lorimer i tessuti e le prassi sociali non sono bloccati in logiche razionali prevedibili sono spesso viscerali e istintive come la ricerca di Ikea concettualmente questa prospettiva è molto utile per integrare le intuizioni dell'economia politica sulla mobilità a livello macro con attenzione alla performance alla sensazione della mobilità a livello micro queste teorie in primo piano il significato delle valutazioni ci aiutano a comprendere il ruolo dell'esperienza corporea in modo più transitorio aperto apprezzando quello che i corpi possono fare che non rimane fisso ma cambia in relazione a ciò che facciamo per esempio il mio lavoro precedente sul pendolarismo riguarda eventi e incontri e il cambiamento delle nostre capacità tutti questi ambienti in cui ci muoviamo ci colpiscono e lasciano un segno alcuni aumentano alcune capacità e ne riducono altre ovviamente anche la nostra presenza cambia il mondo in breve come ho dimostrato nel mio recente lavoro sull'abitudine della geografia culturale ciò che sperimentiamo diventa parte di ciò che siamo e parte degli ambienti in cui ci muoviamo il significato di questo è che la mobilità e le infrastrutture non solo ci trasportano ma ci cambiano attivamente dal punto di vista metodologico sono interessato a esplorare come diversi ambienti di viaggio cambiano le capacità delle persone di essere influenzati e di influenzare rispetto agli spazi che sono stati al centro dell'analisi geografica la mia attenzione si è concentrata su una serie di ambienti interstiziali l'interno dei veicoli le carrozze dei treni le sale degli aeroporti le file dei taxi questi non sono privi di socialità e di storia al contrario sono nuovi luoghi dove lavoriamo sul nostro senso del sé e negoziamo le nostre relazioni social e spaziali sono molto ispirato come CAI a nuovi modi di fare lavoro sul campo che mettono in evidenza capacità mutevoli approcci creativi che permettono nuovi modi di percepire e sentire le transizioni di potere nei modi di vita dei altri trattando quindi le interviste come una partecipazione osservante il mio lavoro sul campo comporta quindi incontri con lavoratori immobili quindi nel mio recente progetto ho intervistato dei geek workers e consumatori di piattaformi per esplorare come l'economia on demand stia cambiando intensamente le mobilità urbane cambiando le configurazioni di piacere e di amore apprendendo la pragmatica quotidiana di questi lavori e le varie strategie tattiche che le persone sviluppano per far fronte a queste vite ho prestato attenzione al modo in cui si parla di questi lavori dal punto di vista del cambiamento delle capacità indeterminate sono stato interessato alle relazioni delle persone con il lavoro attraverso il racconto di storie durante questi incontri sul campo i geografi della mobilità hanno scritto molto sulle mobilità dalla prospettiva degli spostamenti corporei e la loro mancanza le persone sono ferme sul posto tuttavia recentemente mi sono interessata a un diverso tipo di mobilità che ha ricevuto meno attenzione come conseguenza del covid definirei la mobilità affettiva cioè le persone sono immobili dal punto di vista delle sensazioni corporee pensate come durante la pandemia abbiamo sviluppato dei modi per fermare la mobilità affettiva impedire che situazioni deprimenti ci colpissero abbiamo sviluppato ogni tipo di metodo per anestetizzare le sensazioni dolorose forse ho bevuto anche troppo vino devo dire per me è stato un lavoro sul campo con i gig workers come i fattorini a domicilio altri ricercatori hanno invece evidenziato come questi lavoratori sono orientati al presente molte delle mie interviste indicano una disposizione a lavoro molto diversa in cui la narrazione ha lavorato per allontanarli dall'immediatezza della loro situazione lavorativa quindi erano sempre sottili e palpabili c'erano proiezioni rassegnazioni le mie interviste con questi lavoratori hanno suggerito una situazione di persone che non abitano pienamente il presente è interessante perché Heidegger e le sue idee su come i compiti pratici ci immergono in una sorta di abitazione sembrano essere in contrasto con le forme più eccentriche o oblique di abitazione del posto in cui ci troviamo che questi lavoratori gestiscono questo credo complica alcuni dei nostri punti di contatto concettuali più cari in geografia sociale e culturale definiti come sono da un impegno a trattare le relazioni come primarie nel nostro attenzione collettiva nella collegare i punti e tracciare i legami e unire i fili abbiamo creato un'immagine di un corpo che è completamente immerso nella trassi durante vari periodi della cultura della geografia le metafore spaziali riflettono questa immagine del corpo l'ibridità la fluidità la porosità questi supporti concettuali i confini e le frontiere sembrano scomparire e questo mi ha portato a riflettere alcuni geografi hanno notato la loro insoddisfazione per queste idee di ibridazione si sono rivolte a teorie più dinamiche che enfatizzano i confini le frontiere temporali espresse attraverso concetti di cambiamenti di fase e tali teorie sembrano ancora dare priorità alla connettività a spese della disconnessione e della separazione e questo è il punto che viene fatto dagli autori dei contributi della geografia negative curato da Mitch Rose Palarese e me per me nell'insieme le geografie relazionali che enfatizzano la connettività non ammettono i tipi di disconnessione immateriale che erano palpabili nelle interviste che ho fatto con i lavoratori gig l'attenzione alle relazioni sembra aver portato a un'eccessiva concentrazione sull'intensificazione delle capacità di essere affetti dove essere in sintonia è diventato un imperativo etico questa è la conclusione di molti articoli di geografia noi insieme a altre persone cerchiamo di dare attenzione al mondo occuparci di più di questo questo ci porta a valorizzare questo sappiamo molto di più quello che accade nel mondo ma questo ci porta a preoccuparci di più delle cose quindi spesso non ci muoviamo siamo separati dal resto quello che è significativo è che molte teorie critiche hanno evidenziato i problemi dell'indifferenza possiamo tracciare una linea che va dai primi lavori sulla intensificazione degli stimoli urbani attraverso gli scritti di Simmel e Benjamin fino ai recenti lavori di Berardi che mettono in guardia dei pericoli dell'anestesia dell'esaurimento sensoriale il cui risultato finale è una soggettività impotente i pensatori della performance hanno recentemente scritto su come l'essere indifferenti non influenzati possa essere pensato più affermativamente come una tattica di sopravvivenza in un mondo che ci inonda sono questi i pensatori che mi hanno aiutato di più a rispondere alle interviste che ho fatto ai lavoratori geek Berland attraverso il concetto di un feeling ci offre degli appelli molto utili come molti degli altri suoi concetti che segnalano i tipi di agenzia fuggitiva disponibile anche nelle situazioni più vincolate il non sentire è un strano tipo di capacità un tranquillo rifiuto di sentire una forma di rifugio che non si accorda con la sensazione di essere presente altri pensatori sono più espliciti sulla loro generatività Zine Yao incoraggia a considerare la disaffezione come la rottura insensibile che consente il sorgere di nuove strutture di sentimento Rita Felsky sottolinea come l'essere insensibili possa creare ogni tipo di altro legame tornando indietro la politica di questa ricerca riguarda la difesa della giustizia della mobilità per usare il termine di Scheller per me ho la responsabilità di rivelare la miriade di ingiustizie nascoste sotto il radar dell'economia politica attraverso la mia ricerca con i lavoratori ho compilato delle tattiche che i lavoratori hanno trovato utili e nel mio precedente lavoro con i lavoratori mobili ho condiviso queste tattiche con altre attraverso animazioni brevi dirette ai lavoratori mobili attuali e futuri abbiamo prodotto anche rapporti che richiamano le responsabilità istituzionali eppure in questa agenda basata sull'impatto che l'Accademia neoliberale richiede sempre più spesso mi sento a disagio per l'essenzializzazione che questo pragmatismo rischia questo sembra andare contro l'indeterminatezza delle teorie della performatività con ispiro sono anche molto preoccupato delle teorie geografiche culturali che infatti utilizzano eccessivamente i poteri supplementari che possono essere presenti in una situazione anche più vincolata i geografi culturali ispirati dalle teorie del processo attraverso le filosofie affermative di Delusa e Guattari ci hanno mostrato un mondo di potenzialità infinite e questo può anche essere vero e tuttavia una tale teorizzazione un tale investimento nella fiducia che la trasformazione avrà a luogo è sicuramente anche ingenua perché tali teorie non rendono conto dei limiti dei blocchi da trascendere e le barriere inconciliabili questo è un difficile equilibrio ma in un'epoca di perdita abbiamo bisogno di nuove teorie geografiche che rendano conto del ruolo dei limiti dell'immobilità in tutta la loro complessità affermativa e critica grazie per concludere speriamo che siate d'accordo su tutto che le geografie immobili sono in grado di indagare e intervenire nelle nuove configurazioni di potere che stanno emergendo come conseguenza del covid queste nuove configurazioni di potere sono rese anche più complicate se consideriamo come la crisi della pandemia si ripiega in altre crisi che stiamo vivendo contemporaneamente specialmente quella climatica laddove il potere è stato tradizionalmente teorizzato dai geografi lungo gli assi statali e istituzionali spacchettando le varie tecniche disciplinari e i modi attraverso i quali le persone e i luoghi sono stati governati attraverso la nostra presentazione di oggi abbiamo cercato di spiegare come una prospettiva geografica culturale mette in primo piano l'integrazione e l'affettività integri questi modi di pensare il potere lungo nuove linee sia come il potere viene distorto ma anche come i corpi potrebbero anche rispondere in modi del tutto imprevisti per le geografie della mobilità questo significa che è vitale pensare al modo in cui la mobilità viene diversamente governata attraverso la macropolitica delle politiche e le prassi statali e abbiamo bisogno anche di pensare alla micropolitica della mobilità in termini di come le persone vengono spostate e fatte sentire in modi diversi abbiamo suggerito che questa macropolitica sia più determinata più aperta come ha mostrato la ricerca di Calia queste teorie possono essere utilizzate per pensare a come la governance avvenga attraverso registri estetici e sensoriali e la ricerca la mia ricerca indica tali teorie possono essere usate per pensare a come le persone gestiscano le loro capacità di essere capite e di sentire vogliamo anche sottolineare che non è solo la gestione dell'immobilità fisica che ha luogo ma anche quella affettiva attraverso i vari modi in cui i disagi possono essere bloccati anestetizzati da noi stessi e dagli altri quindi in breve speriamo che siate d'accordo con noi del fatto che è il momento perfetto per i geografi per indagare la ricchezza e la complessità delle future geografie mobili per sviluppare nuovi modi di comprendere le nostre relazioni motevoli con la mobilità sia fisicamente che affettivamente per cercare una nuova giustizia della mobilità grazie ancora per il vostro invito alla presentazione della nostra lettura per averci fatto sentire così benvenuti e siamo lieti di ascoltare i vostri commenti e le vostre domande grazie grazie Kai e David per la vostra presentazione così brillante adesso vorremmo dare la parola o la microfono lo schermo come preferite ai nostri colleghi al nostro pubblico come scritto nella chat invitiamo chiunque abbia delle domande per i nostri ospiti a utilizzare la chat se volete intervenire basta mettere il vostro nome nella chat potete scrivere la vostra domanda in italiano e la tradurremo per Kai e David oppure se volete potete anche solo esprimere le vostre domande in inglese fateci sapere se volete intervenire nella chat lascio qualche secondo di tempo ai colleghi per poter sollevare le loro mani virtualmente vedo che c'è una persona che vorrebbe condividere alcuni commenti se ci sono domande lascio appunto la parola a Laura e lo presti grazie non so se mi riuscite a sentire se ti sentiamo grazie per la presentazione così approfondita ci sono una serie di domande commenti da fare quando si riflette sul futuro della geografia della mobilità ma la prima impressione che ho avuto è confrontando le idee con le riflessioni fatte nel 2002 quando è stato chiesto di fare una lettura sul futuro della geografia a Singapore è interessante vedere con tutte le direzioni future che sono state immaginate in questa lettura la sensibilità la performance l'uso dei metodi intestuali una geografia più impegnata politicamente e quindi come è stata considerata nel lavoro che è il nostro lavoro che ha sottolineato questi aspetti sono mi riferisco alla lettura di Rift perché secondo lui poiché la geografia è una delle poche discipline che non è scientificamente dominata dagli Stati Uniti c'è una possibilità di sviluppare e respirare in termini accademici con lavoro sulla mobilità e quindi a parte questo ero curiosa di capire cosa tenete siano gli spazi futuri d'incontro laddove si possa sviluppare questo studio estetico più ampio quindi a livello pratico virtuale sociale spazi per creare questa quest'idea comune oltre anche le nostre istituzioni nazionali si tratta di questo oggetto di ricerca entrambi avete sottolineato che abbiamo bisogno di sviluppare una idea geografica più ampia della mobilità e quindi come nello studio dei confini della migrazione si parla di mobilità anche anche nel settore della migrazione si parla di mobilità e volevo sapere da voi se pensate che ci sia che ci sia si possa parlare in modo continuo di mobilità e mobilità davide caia sentitevi liberi di rispondere alla domanda della collega quindi sono lieto di rispondere per primo grazie Laura per le tue riflessioni credo che sia molto interessante visto queste riflessioni di cui parlavi sulla credo che tu hai ragione da molti punti di vista molto del lavoro che è stato fatto allora è divenuto una parte accettata della nostra disciplina non abbiamo più parlare della importanza della embodiment della performance e questo è molto gratificante quello che è interessante allo stesso tempo nell'ambito della geografia è una certa lavoro sulla effetto sulla performance l'embodiment che è divenuto più diffuso nella a livello europeo australiano del rinunito allo stesso tempo c'è una un indurimento della prospettiva e questo è il motivo per cui penso che si debba parlare della immobilità da diversi punti di vista ed è molto prezioso come momento proprio questo momento e si può pensare che si tratti di una caricatura ma molta geografia negli ultimi anni è stata definita e influenzata da questa teoria quindi un corpo che è performante che è nella massa che è completamente inserito in questa forza interattiva e allo stesso tempo questo come ho cercato di dire oggi non lascia spazio è molto un modello caustrofobico di mondo non c'è distanza non ci sono distanze tra noi c'è confusione c'è incomprensione quindi per ogni giorno in termini di distanza nelle nostre relazioni ma anche più gap più fondamentali in termini di capacità di comprendere e empatizzare con le persone che sono lontane e vicine credo che quello che spero di vedere è che la geografia della mobilità e anche quelli che si occupano di migrazione possano essere le nuove voci che inizino a parlare di nuovo di questo della prassi dell'entusiasmo della performance della creatività tutte queste cose esistono ma hanno un lato della medaglia che sicuramente è stato sottovalutato questa è una grande risposta credo che potrei aggiungere brevemente a livello personale vedo la difficoltà nel pensare al futuro a questo punto della crisi per un mondo migliore quindi è difficile pensare al futuro della disciplina se si pensa al futuro tra 20 anni per esempio nella vita quotidiana credo che forse la promessa e l'ispirazione che ci è stata data nella lettura di 20 anni fa è utile essere onesti con noi stessi su quello che è cambiato nella disciplina ma anche quello che non è cambiato ma non solo nella geografia anche a livello di produzione della conoscenza accademica quindi abbiamo bisogno di essere critici riguardo a chi sta ponendo queste domande allo studio dei corpi e a quello che non viene studiato quindi la differenza nel fare delle previsioni o nella espressione di speranza e aspirazione potremmo farlo in questo momento per il futuro dobbiamo essere realistici davvero fa grande esercita una grande pressione non vogliamo aspettare altri 20 anni pensando guardando indietro e dicendo che avremmo dovuto reagire è una cosa disciplinare sicuramente questa è è quello che penso cioè bisogna cambiare le cose molto è stato fatto è stato utile produttivo ma altre persone devono entrare nel nostro dialogo a livello transdisciplinare abbiamo molto da condividere grazie grazie david e kaya grazie laura per la tua domanda adesso do la parola a tania rossetto che ha una domanda grazie grazie per questo brillante discorso una domanda per david c'è un ruolo per la filosofia come l'antologia nella sua ricerca se la geografia centrata sugli oggetti e l'enfasi su questa inaccessibilità degli oggetti e delle istanze tra gli umani e gli oggetti risponde almeno in parte al suo richiamo della fluidità della mobilità fisica e metaforica grazie tania questa è veramente un'ottima domanda credo che la risposta breve sia sì certamente l'idea della non relazione dei gap dei divari questo è sicuramente una una teoria europea che vediamo nel lavoro di C. Levinas perciò le persone che si occupano dei gap e come ho detto oggi è questa filosofia non relazionale che ha riguardato il mio lavoro con i lavoratori geek la tua domanda sulla filosofia concentrata sugli oggetti credo che in qualche modo la filosofia concentrata sugli oggetti che si concentra su oggetti sulla tecnologia digitale in particolare ha le sue sono ha degli agenti che sono esterni a noi sono al di fuori della consapevolezza umana quindi c'è una sfida molto importante nella concentrazione da parte nostra sulla fenomenologia sull'umanesimo ma allo stesso tempo c'è qualcosa della geografia orientata sugli oggetti che per me non è sufficiente per la soggettività e credo che in un certo senso un simile criticismo può essere posto anche alla geografia culturale in particolare quella un focus non impersonale che riguarda la performance c'è un appiattimento dei soggetti quindi questo è là dove le persone sono ispirate da Polaris che diceva queste geografie non danno spazio a voi a me a se prima la prima persona la seconda persona è un appiattimento della personalità quindi questo si rifà la domanda di prima cioè cosa avverrà nei prossimi anni la conversazione tra i vari soggetti quelli orientati agli oggetti i geografi e forse queste nuove apprezzamenti emergenti della fenomenologia della soggettività che è postumana quando l'umano è ancora lì è una forma di umanesimo allo stesso modo che ha i suoi limiti le sue incomprensioni capacità i suoi divari quindi direi sì ma con cautela grazie l'umanissimo forse la nuova etichetta passiamo adesso all'italiano perché c'è comunque un servizio di traduzione che le rende comprensibili ai nostri ospiti e nel frattempo ne approfitto per fare io una domanda a Kaya più una curiosità in realtà nella presentazione di David si è sentito molto il peso delle tecnologie come soggetto oggetto importante nel contesto post pandemico data la prospettiva tua personale che ci hai presentato come pensi che si potrebbe appunto si potrebbero studiare le tecnologie proprio nella tua prospettiva che ci hai qui presentato perché nella presentazione non le hai sottolineate e mi faceva piacere capire come le potresti introdurre nella ricerca grazie Now I'll repeat in English And my question was for Kaya and in David's presentation, the issue of technologies as important objects or subjects the way we want to see them have been important. While these were not so eminent in your presentation, but I'm sure that technologies can be studied also in the specific perspective that you presented. So my question is more of a curiosity. How would you study? Legata alla curiosità, come studiereste nel mondo della tecnologia in questo periodo post-pandemico, secondo la vostra approccio e specifico punto di vista? Questo è davvero intrigante come domanda. Non ci ho pensato in effetti. C'è del lavoro molto interessante sull'uso della tecnologia a seguito della pandemia, quindi il passaporto digitale, il certificato del vaccino, i codici di controllo QR, per la registrazione nei posti, quindi il tracciamento dei movimenti. So che in altre discipline c'è stato molto lavoro che è stato svolto di recente. Ho avuto un addetto personale, ho avuto il mio pass del vaccino. Sono veramente affascinata dai colori. Questa è la versione danese. Non so se il vostro è sim, si fa il login con il volto, si visualizza il codice QR con i dati personali e c'è il tempo che trascorre. L'animazione colorante non si può fare uno screenshot o replicare. Credo che sia il colore dell'arcobaleno, qualcosa che celebra il successo. Questo crea una sorta di aura di riuscita a livello pubblico, quindi è un intervento così nuovo che ha fatto la tecnologia nel sentirsi sicuri nel posto e della nostra appartenenza. Sono sicura che se qualcuno non ha uno smartphone di ultima generazione, questo non funzioni. Quindi si tratta di sottolineare la sorveglianza pubblica di quelli che sono gli spazi e i diritti che le persone hanno. Cerco di esprimermi in parole giuste. In Australia ci sono questi club, questi posti per circoli per anziani. Quindi come fanno ad entrare queste persone anziane se non hanno uno smartphone? Come affrontano l'aspetto tecnologico? L'apertura di un'app ad esempio? Ci sono aneddoti personali umani sulla tecnologia che è divenuta oramai obbligatoria per l'uso pubblico e questo è sicuramente un cambiamento così cruciale per quanto riguarda chi può partecipare o no. Al di là della discussione sulla vaccinazione o non vaccinazione, questo è quello che mi viene in mente. Non ho dato troppa importanza a questo. Forse David vuole aggiungere qualcosa? Credo che sia una domanda molto interessante. Spesso le geografie hanno tecnologie, specie quando si parla di biopolitica, passaporti. Quindi molto spesso c'è un'agenda nascosta per quanto riguarda i progetti tecnologici governativi. Quindi la tecnologia sanitaria sembra un po' diversa, diverse capacità ovviamente in modo diverso. Molte delle dimensioni, delle interattività stanno creando molta pressione, quindi c'è una sorta di fare un passo indietro. E questo per tornare alla domanda di Tania, questo forse è critico, ma c'è una tendenza con la nuova tecnologia come ricercatori. Quindi la usiamo, la mettiamo sul pedestale e diciamo, mamma mia, guarda che cosa è in grado di fare. Con una serie di teorie con cui siamo cresciuti, c'è il controllo della società tramite questi, con questa tecnologia che può rendere tutto molto più immediato. Sono molto interessato più a quello che hai detto tu, Kaya. Quindi ovviamente le tecnologie hanno le loro agenzie, ma ci sono anche delle creatività che si hanno quando le persone interagiscono e quindi con cose che emergono. Direi che quando si parla di tecnologia, purtroppo c'è un buon motivo per avere sospetti. Quindi la dimensione critica è qualcosa che va preso in considerazione. Grazie di nuovo. Adesso cerco di tradurre la domanda del professor Pase. Se dimentico qualcosa, interrompetemi pure. Pensando all'adesso, a cui ora, a Padova, ovunque, qual è la vostra impressione su questo modo di vivere il confronto accademico che stiamo sperimentando oggi, che abbiamo sperimentato per molto tempo, quali emozioni e quali declinazioni estetiche che vi colpiscono e vedete, intravedete e vorreste condividere con noi. Forse David può iniziare nel posto mio su questa. Grazie Kaya. André, tornando alla prima domanda, Andrea, questi nuovi modi di fare la geografia, di essere insieme, onestamente è davvero meraviglioso. Io e Kai siamo così entusiasti di essere in un contesto in cui in genere non siamo, avendo l'opportunità di parlare e fare connessioni con le persone con cui in genere non abbiamo una connessione. Questo consente una tecnologia come il Zoom. Probabilmente prima non avremmo potuto fare una cosa del genere, ma l'altro lato della medaglia è implicato nella domanda. All'inizio della presentazione Kai ha parlato della sovrasaturazione, qualcosa di cui ho parlato anch'io nella mia presentazione, come siamo impattati dal mondo. Quindi questo è un problema, è una sfida istituzionale e collettiva che dobbiamo tutti gestire, non solo nei prossimi giorni a una conferenza online, ma nei prossimi anni. Quindi quando pensiamo a come ci rivolgiamo alle persone, abbiamo una conferenza a dicembre per due giorni, speriamo che voi possiate pensare di scrivervi e fare un abstract, sarebbe brillante. Spero che dobbiamo pensare anche al nostro benessere, anche al nostro bilancio del lavoro e della vita, quindi non stare in piedi per troppe conferenze. Credo che sia molto affascinante, ma pone anche la domanda di chi abbia accesso alla tecnologia, a tutte queste questioni, domande che sono state affrontate nella Digital Divide, forme simili in eguaglianze, nella struttura di un evento. Quindi vorrei dire a Chiara e a Giada che a noi piacerebbe essere lì di persona, a Padova, magari la prossima volta, quindi forse in un'altra occasione. Vorrei aggiungere solo che di recente mi sono spessata nella stessa fuso orario, e quindi c'era questo ottimismo dei ricercatori australiani su transizione online. Tutti potevamo accedere a questi seminari, questi discorsi, questi eventi online gratuitamente. Sì, certo bisogna svegliarsi a orari strani per adeguarsi a altri fusi orari, per partecipare a eventi europei, con fuso orario americano del Regno Unito, quindi cambia il pubblico per gli eventi online, per tutti gli eventi accademici. Questo è importante, ma l'altro lato della domanda, della medaglia, come detto da David, è dobbiamo fare tutto questo lavoro durante la giornata? E magari dedicarci troppo al lavoro, strascurando altro? Sicuramente è una vita accademica su cui dovrebbe riflettere. Per me è molto affascinante in termini di spazio questa area di attesa che adesso conosciamo, che intermedia tra la nostra vita professionale e la nostra vita quotidiana, quindi creando una distanza rispetto ad altri spazi. Adesso abbiamo una domanda della professoressa Monica Meini della Università del Molise. Chiedo di porre la domanda a lei stessa, potete anche leggerla in inglese direttamente. Stessa Meini può fare la sua domanda. Ok, in inglese, ok? Ok. L'ho fatta in inglese. È molto interessante questo dialogo. Sono interessata nel comprendere in questo lavoro transdisciplinario che avete portato avanti, credo che riguardi anche le scienze cognitive e comportamentali. quali competenze e strumenti dovrebbero essere inseriti nella formazione di un ricercatore e quali, penso, potrebbero essere i nostri compagni nell'avanzamento della conoscenza di studio di nobilità. Grazie. Grazie. Grazie, Kaya. Vuoi forse rispondere? Sì, credo che l'audio era un po' interrotto. Credo che la domanda si riguardi il tipo di strumenti, di formazione che dovremmo avere se stiamo studiando la mobilità, la geografia, la mobilità. Per me si tratta di una qualcosa di progetto contestuale. Ci sono diversi allineamenti scientifici o metodologici per la studio di un fenomeno o di un evento. Credo che nella mia sezione di presentazione sono favorevole all'arte, alle arti visive, alle culture visive. Questo non vale per tutto, questo sottolinea la transdisciplinarietà della geografia culturale e credo che sia un testamento della varietà, della ricerca, del background che entrano nella disciplina quando facciamo ricerca, in termini di studio di mobilità, è sicuramente qualcosa basato su trasporti, sui casi singoli, quindi l'ingegneria, questo tipo di aree scientifiche rispetto al lavoro che facciamo io e David, che è più culturale, ha un sapore più legato al manesimo. Non so se ho risposto alla domanda, forse David può aggiungere qualcosa. Credo che sia una domanda molto fascinante, grazie Monica, perché un studente nella mia classe, la prima lezione di geografia, si parlava di mobilità, si parlava di emozioni e mi ha chiesto che cosa fa la geografia che gli studi culturali e sociali non fanno. E io ho detto, questa è una domanda davvero importante, perché tutti adesso ci occupiamo di questi problemi di cui ha parlato Kaia, i grandi problemi che affrontate voi nella vostra ricerca, quindi uno spazio interdisciplinare dove i ricercatori devono lavorare insieme per risolvere questioni, per trovare delle risposte alle sfide del giorno. Quindi la domanda di Monica su cosa possiamo offrire come geografia è sicuramente così cruciale. Credo che ci sono due risposte che darei. La prima è che ritengo che la nostra esperienza, le nostre capacità su come noi intendiamo lo spazio alla base di tutto quello che facciamo. Credo che come più di qualsiasi altra disciplina, noi siamo le persone che possano fornire delle sfumature, una pensiera sulla prossimità, sulle distanze, tutti gli aspetti in cui noi concepiamo lo spazio ogni giorno. Quindi per me questa è la base. Per quanto riguarda il secondo aspetto legato a questo, noi geografi abbiamo una serie di capacità che dobbiamo sviluppare, essere rispettosi della sensibilità. Siamo ancora una disciplina molto giovane, a seconda di come si voglia definire la geografia contemporanea rispetto agli anni 30. Siamo una disciplina abbastanza giovane, quindi c'è un background così ampio per quanto riguarda lo spazio. Quindi quando penso all'insegnamento, alle capacità dei geografi, credo che spesso si tratti di tornare indietro alla disciplina, agli archivi, pensare a come, ai modi precedenti, di intendere che i spazi possano essere risviluppati, rivisti, riproposti. Credo che tornando indietro alla ricerca umanistica, quando parlavamo di Edward Rolfe, credo che noi come geografi dobbiamo essere sensibili alle persone che ci hanno portato qui. Dobbiamo tornare indietro, dobbiamo rileggere, perché ci potrebbe essere lì tutto quello di cui abbiamo bisogno per interpretare i problemi odierni, le questioni odierne. Quindi credo che molto è apprezzare, riconoscere, essere sensibili con quello che abbiamo avuto, essere orgogliosi e riconoscere questa storia della nostra disciplina. Grazie, Kai e David. Siamo quindi alla fine, sono quasi le 17.30, abbiamo il momento di una pausa. Durante la pausa, non chiudete il link di Zoom, perché riprenderemo dopo la pausa, cioè le 6. Siamo molto rapidi nel riprendere l'incontro. Quindi uscire e rientrare richiederebbe del tempo. Ritengo quindi che possiamo dire di nuovo grazie a Kai e David per aver aperto il nostro congresso. Sono orgogliosa del fatto che abbiate dato grandi spunti di riflessione oggi ai miei colleghi, che interverranno durante queste giornate, avranno tempo di approfondire quello di cui avete già parlato voi. Grazie ancora e good night a David, buonanotte a David e spero di avervi di nuovo qui molto presto. Grazie. Grazie, è stato davvero un onore, è un piacere e vi auguro il meglio per il resto dei vostri appuntamenti. Dunque, come è annunciato in inglese, abbiamo mezz'ora di pausa. I lavori riprenderanno alle 6 in punto con la sessione internodo dell'AIG. Vi chiediamo di non spegnere il collegamento Zoom durante la pausa, perché questo ci consentirà di accedere molto velocemente ai lavori alle 6. Credo di non avere null'altro da aggiungere, quindi buona pausa. Spero che abbiate apprezzato quanto me e quanto le persone che sono intervenute in questo intervento e sono certa che ci sarà modo di continuare a discutere alcuni degli aspetti appena presentati. Buona pausa, dunque. Grazie. 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 Ben tornati a tutti dalla pausa e do la parola alla collega professoressa Lorena Rocca che introduce la sessione Indernodo AIG e poi coordinerà gli interventi e la discussione che seguirà la presentazione. Grazie Lorena. Grazie. Grazie. Grazie molto Marina, come dicevo è un piacere essere qui ed è stato un piacere seguire l'interessantissimo pomeriggio. Ne traiamo molti spunti, con Riccardo abbiamo promosso questo internodo e siamo davvero felici che sia stato accolto e di poter avere uno spazio in plenare dedicato all'AIG. perché parto un pochino dalla riflessione, dalla domanda che la professoressa Menina aveva fatto in chiusura quali sono le competenze che un geografo deve avere anche nella prospettiva che ci è stata offerta precedentemente e sulle competenze noi bastichiamo con la didattica della geografia, ci ragioniamo molto e io credo che questa dimensione del pensare geografico, del pensiero geografico, del pensiero critico sia una dimensione attorno al quale tutti noi che interveniamo oggi pomeriggio davvero abbiamo a cuore e il senso di avere una presenza qui è fondamentale per quella interconnessione dovuta e doverosa fra mondo della ricerca e mondo della formazione, nessuna innovazione permea la società se non passa dalla formazione e quindi devo dire è strategico essere qui, essere qui come docenti, diversi ordini e grado ma essere qui come riflessione scientifica e applicazione didattica, metodologica, educativa cavalcando quella che è l'innovazione scientifica, tecnologica ed eccoci qua a portare alcuni interventi, Riccardo che è il promotore di questo internodo ne ha dovuti scegliere alcuni per la comunicazione orale ma ce ne sono molti atti che ritroverete nel libro degli atti, Riccardo a te la parola. Grazie, grazie alla professoressa Rocca, grazie Lorena e grazie anche al presidente del congresso geografico italiano alla collega professoressa Bertoncin per essere qui con noi debbo, sento il bisogno veramente di cominciare in maniera non rituale con dei ringraziamenti perché ho osato proporre al comitato scientifico innanzitutto che la sessione fosse presentata da un soggetto collettivo non è una sessione presentata da Riccardo Morri ma è frutto di un ragionamento collettivo come Associazione Italiana Insegnanti di Geografia che è frutto del lavoro fatto negli anni e in particolare su cui abbiamo ragionato insieme a Cristiano Giorda e Matteo Cuttilli che intendo quindi ringraziare e Matteo è presente anche qui lui oggi insieme a noi ma anche nella consapevolezza che naturalmente potevo contare su una realtà come quelli dei colleghi e delle colleghe presenti in AGEI, in particolare nel nodo a cui abbiamo presentato inizialmente la domanda e nel comitato scientifico nella consapevolezza appunto che la didattica e la formazione hanno un ruolo centrale come ribadiva giustamente la professoressa Rocca devo dire che l'idea nasce anche dalla sollecitazione venuta da colleghi più anziani e più esperti di riportare al centro dei congressi geografici italiani recuperando quella tradizione a cui giustamente ha fatto più volte riferimento la presidente Bertoncini di recuperare questa tradizione di ampi spazi dedicati alla didattica della geografia all'interno del congresso geografico italiano in particolare penso alle sollecitazioni arrivate da Carlo Brusa e Luigi Stanzione e devo dire anche in questo caso la sollecitazione dell'invito è stato accolto in pieno non solo per aver trovato questa soluzione internodo che quindi abbracciasse tutte le varie le differenti declinazioni del tema portante delle geografie in movimento scelto per il congresso geografico italiano ma non mi è sfuggito anche la collocazione strategica insomma per me penso che sia un privilegio e un onore di cui AIG è particolarmente grata io personalmente mi sono particolarmente riconoscente di essere di fatto la sessione con cui si aprono i lavori del congresso geografico italiano e quindi penso che questo sia importante per le ragioni che diceva proprio Lorena ci tengo anche a richiamare la visione della selezione io personalmente quando si ragiona di selezione e valutazione la lavagna su buoni o cattivi, libri giusti e libri sbagliati è una dimensione con cui mi trovo particolarmente poco a mio agio noi siamo molto più a nostro agio un criterio che è quello della rappresentanza quindi è evidente che anche tra coloro che non sono stati scelti per presentare una comunicazione orale ci sono contributi e proposte di pari dignità degli interventi che ci saranno oggi ma abbiamo cercato di fare in maniera tale che nello spazio messo gentilmente a disposizione ci fossero anche degli interventi di qualità ma che fossero rappresentativi e della varietà dei soggetti che si occupano di didattica e di informazione e di una varietà di approcci e di temi sfruttando la possibilità chiaramente di dare spazio a tutti quanti nel volume degli atti il tema della mobilità è centrale in didattica il tema della mobilità non solo inteso come spostamento e movimento fisico di persone ma anche come movimento all'interno della disciplina e delle metodologie didattiche che nei regolamenti debbono costantemente adeguarsi legato a quello spirito critico e a quel senso di responsabilità che ha a che vedere poi con i temi della cittadinanza che al di là delle sue declinazioni normative ha una sua dimensione chiaramente legata all'appartenenza ai differenti contesti un'appartenenza che per la nostra società contemporanea è transeunte non necessariamente immanente e sono particolarmente contento che ci siano appunto diversi soggetti oggi intorno a questo tavolo virtuale anche come rappresentanti in qualche misura dell'editoria scolastica come Carlo Guaida per Dea Scuola perché questa è un'interlocuzione che dobbiamo mantenere aperta in quella prospettiva di geografia pubblica e di relazione attiva con la società civile quindi i diversi attori che hanno la possibilità di impattare nella formazione e che inevitabilmente debbano essere nostri interlocutori anzi preferibilmente aspicabilmente compagni e compagni di viaggio io mi taccio, non intendo sottrarre altro tempo alle relatrici e ai relatori che ringrazio non solo per essere presenti ma come ho detto prima per l'estrema puntualità questo ci agevolerà nella conduzione, nell'agile conduzione dei lavori quindi in base a quello che è semplicemente banalmente l'ordine alfabetico darei la parola al collega, al professor Bagnoli per il suo intervento da immigrati a cittadini globali un progetto geografico del centro provinciale per l'istruzione degli adulti di Desio prego professor Bagnoli grazie mille Riccardo penso che si veda il powerpoint allora colgo l'occasione, visto che sono il primo dei relatori a ringraziarti Riccardo per l'organizzazione di questa sessione internodo e poi anche per ringraziare i colleghi di Padova che hanno organizzato il congresso che finalmente ha visto la sua prima mezza giornata oggi la ricerca che vi sto per illustrare è appunto un progetto geografico condotto in collaborazione con il centro provinciale per l'istruzione degli adulti di Desio in provincia di Monza e Brianza e contrariamente a quello che succede di solito nel procedimento scientifico vi trasmetto adesso questa breve slide bibliografica perché taglierò tutti i riferimenti teorici alla ricerca che comunque più o meno tutti conosciamo visto che siamo tutti anche soci della associazione insegnanti di geografia e passerò direttamente a illustrare le diverse tappe del progetto triennale che è stato svolto negli anni passati innanzitutto due parole su Desio questo comune a nord di Milano dedito soprattutto a attività del secondario e del terziario che conta di circa 41.000 abitanti di questi vi è un bel numero di immigrati di 3.900 circa che corrispondono al 9,4% della popolazione residente totale che non è un dato che si discosta di molto dalla media nazionale che invece è di 8 punti e mezzo quello che invece è una caratteristica di Desio e lo vediamo nel grafico in basso a sinistra è la provenienza degli immigrati circa un quarto sono romeni e di nuovo la percentuale è molto prossima alla media nazionale ma un quinto viene dal Pakistan e questo invece è una percentuale molto elevata perché a livello nazionale i pakistani sono circa il 2,3% tant'è vero che nei mesi, negli anni scorsi giravano anche alcune battute su Facebook come quella che ho messo qua sulla slide per quanto riguarda la composizione demografica degli immigrati c'è questa piramide della popolazione molto interessante piramide della popolazione immigrata dal quale si vede come la maggior parte degli immigrati sono ovviamente nella fascia d'età compresa fra i 30 e i 44 anni con una grande prevalenza tra l'altro di donne rispetto agli uomini presso Adesio vi è un CPA un centro provinciale per istruzione degli adulti che chi ne vuole sapere qualcosa di più non ha che da consultare il DPR 263 nel 2012 il quale aveva riformulato altri centri di istruzione degli adulti già preesistenti mi vengono in mente per esempio i Cratches degli anni 80 che avevano come finalità soprattutto quello di alfabetizzare quegli italiani che non avevano avuto modo di prendere la licenza media in età scolare è cambiata la società è cambiato anche il ruolo dei CPA perché oggi i CPA si rivolgono soprattutto e questo è anche il caso di Adesio agli stranieri vi è all'interno del CPA un'utenza oramai per la stragrande maggioranza di immigrati che si distinguono in questi diversi corsi abbiamo dei corsi di base proprio per insegnare l'italiano agli stranieri in questo caso qua sono naturalmente tutti stranieri i frequentati poi abbiamo il corso per ottenere la licenza media vi sono dei corsi mattutini vi sono dei corsi serali che come vedete insieme fanno conto a circa una sessantina di studenti l'anno di cui i cinque sesti sono stranieri gli italiani oramai sono veramente pochi tra i quali c'è anche da contare soprattutto nel corso serale un buon numero di richiedenti asilo e infine molto brevemente vi è il corso RIFO cioè il rientro in formazione che è addirittura il primo biennio delle superiori che Adesio è presente in due indirizzi l'istituto tecnico in marketing e finanza e quello in meccatronica e qui gli italiani sono invece circa la metà quindi qua la percentuale di italiani è un po' più elevata il progetto che noi abbiamo condotto negli ultimi tre anni era un progetto di cittadinanza attiva di cittadinanza globale di inserimento di questo numero importante di immigrati nel nostro paese il livello degli studenti in generale presentava una buona comunicazione linguistica ma un linguaggio geografico invece alquanto limitato la conoscenza del proprio paese era soprattutto dal momento dell'indipendenza quella invece dell'Italia era molto scarsa e poi è emerso anche dall'analisi dei colleghi che per tanti anni lavorano a CTA che presso di loro l'antico viene considerato solo vecchio senza capirne l'importanza culturale e identitaria per tanto ci siamo posti come fine quello di creare una più elevata integrazione sociale attraverso una migliore conoscenza del territorio italiano per quanto riguarda la scala nazionale e di Desio e della Lombardia per quanto riguarda la scala locale per quanto riguarda gli obiettivi conoscere la localizzazione delle principali località italiane ponendo diversi monumenti italiani nel loro contesto paesagistico e storico-culturale e per quanto riguarda gli strumenti ne abbiamo usati veramente molti siamo passati dall'attività cattedratica a quelle interattive dall'impegnativa alle ludiche da quelle in aula da quelle sul territorio a grandi linee naturalmente quelle cattedrati che erano anche impegnative in aula quelle interattive a grandi linee ludiche e sul territorio quali sono queste attività? allora ogni anno l'attività incominciava con una lezione introduttiva sull'eritegi italiano di circa un'ora e mezza e poi la seconda attività e invece cambiava nel 2018 la visita a Minitalia con una caccia al tesoro servendosi dell'app Caut nel 2019 un gioco a quiz usando invece l'app Socrative e nel 2020 un'attività di orientamento per le vie di Milano in collaborazione con il Museo Popoli e Culture del Pime il Pontificio Italiano Missioni Estere il Pontificio Istituto Missioni Estere iniziamo dalla lezione introduttiva sull'erite che tenevo io e che partiva da degli oggetti di uso quotidiano sui quali però magari gli immigrati hanno riflettuto poco che sono le monete di euro che sono state presentate non nell'ordine del loro valore ma nell'ordine cronologico del monumento che compare sul verso della moneta stessa ed è così che siamo partiti dall'antica Roma con il Colosseo siamo passati dal Medioevo con Castelmonte Dante poi il Rinascimento la nascita di Venere la piazza del Campidoglio l'uomo vitruviano infine il XIX secolo con la molla antinoliana e il XX secolo con le forme uniche della continuità nello spazio di boccioni che compaiono sui venticentesimi in questo modo ognuna di queste monete poi veniva in qualche modo ricollegata al ognuno di questi beni culturali veniva certamente ricollegata al territorio nel quale si trovava veniva localizzato veniva visto il significato culturale dell'oggi di questi beni culturali e la lezione durava circa un'ora e mezza e risultava di solito abbastanza interattiva perché i studenti davano dimostravano un certo interesse proprio perché si partiva da qualche cosa che loro avevano in mano spesso ma sui quali non avevano mai riflettuto adeguatamente passiamo invece adesso a vedere a grandi linee le attività la visita all'Eolandia in Italia abbiamo detto con una caccia al tesoro tramite la app di 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 Caut era molto semplice sul loro smartphone gli studenti dovevano ricevevano un messaggio che li invitava a recarsi un elemento culturale o ambientale del paesaggio italiano lo dovevano raggiungere e poi una volta raggiunto su questo in Italia sapete sono dei modellini dei monumenti italiani ma localizzati nel punto giusto della penisola dovevano fare un selfie per dimostrare appunto di essere arrivato e poi rispondere a queste tre breve domande in quale regione si trova quando e perché è stato costruito e per descrivere qualche elemento o naturale se il bene era culturale o culturale se invece il bene era ambientale del territorio circostante una cosa interrompo un paio di minuti per chiudere sì sì una cosa sulla quale abbiamo molto insistito è che non era un'interrogazione ma era qualcosa per cui dovevano potevano andare senza altro a cercare su internet questa è a grandi linee la provenienza e l'anno di nascita dei partecipanti in secondo anno invece si è svolto questo gioco a quiz con delle domande di geografia molto differenziate vedete dalle più classiche sul film e l'unico d'Italia sulla percentuale degli stranieri sulla lettura dei grafici sulla lettura delle carte e anche qua abbiamo l'anno di nascita e la provenienza dei nostri studenti il terzo anno vi era appunto l'attività di orientamento ma come sappiamo tutti abbiamo dovuto annullare per motivi a noi ormai tristemente ben noti quali sono i risultati del nostro della nostra attività un'ottima attenzione da parte degli studenti durante le lezioni l'abbiamo già detto ma addirittura entusiasmo per l'attività sul territorio ho messo qua alcuni messaggini che abbiamo ricevuto sulla chat di whatsapp di studenti che hanno appunto apprezzato in particolar modo l'attività a Mini Italia uno sviluppato interesse per l'autoapprendimento una maggiore consapevolezza del loro abitare poi c'è stato anche un accresciuto affiattamento fra i docenti un elevato appoggio da parte delle istituzioni perché le cooperative che ospitavano all'epoca i richiedenti asili hanno pagato loro la quota la piccola quota comunque che dovevano dare per l'accesso a Mini Italia per l'affitto del Pullman siamo stati contattati da parte di altri CPA locali per ripeterla c'è stato anche qualche interessante esempio di conflitto culturale molto brevemente c'era uno studente di 16 anni marocchino che ha dimostrato molto imbarazzo dinanzi alla venere di Botticelli al Davide Michelangelo all'uomo vitruviano che mostrano le loro nudità c'è stata qualche difficoltà a comporre squadre miste per nazionalità per genere si mettevano sempre tutti insieme e il costo dell'iniziativa per alcuni è stato un po' elevato è finito tutto regalando a tutti gli studenti premiandoli per il loro impegno questa penna col pinocchietto che però è stato poi nell'anni successivi ancora molto usato dagli studenti e mi piaceva questa fotografia dove ancora appunto si vede come veniva usata volentieri detto questo io ringrazio per l'attenzione e anche a nome dei colleghi e colleghe del CTA di Desio con i quali abbiamo svolto questa ricerca rimango a disposizione per domande e ciò che servirà grazie 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 molto Lorenzo io direi di lasciare incodere domande e di segnarvele in modo tale che possiamo poi aprire il dibattito è chiaro che tu hai dimostrato che l'apprendimento quando è situato è significativo tu che artefatti reali è un apprendimento che funziona e che funziona molto molto bene a questo punto senza perdere un attimo passerei la parola a Sara Bin che con Giulia Andrian e Luisa Fazzoli hanno messo le mani in pasta nei paesaggi con un bellissimo progetto dal titolo molto originale in ventiamo i paesaggi di domande esperienze partecipative di cittadinanza attiva Sara grazie Lorina grazie grazie presidente grazie grazie per per aver accolto la nostra presenza qui la presenza di EG Veneto per EG Veneto è un onore esserci a questa sessione a sessione di apertura anche dei lavori del congresso un po' di visione scusate mi trovo mi trovo qui oggi con le colleghe Giulia Andrian e Luisa Fazzini due colleghe di EG Veneto vi portiamo una riflessione un contributo che non parla di risultati ma parla di un'azione ancora quella di inventiamo i paesaggi di domani un titolo un titolo sì originale direi sfidante perché contiene delle sfide ne contiene una anzi ne contiene più di una perlomeno due nasce in un contesto spazio temporale particolare in un tempo quello del ventennale della convenzione europea del paesaggio in un tempo di blocco della mobilità e la sfida invece è quella di andare incontro ai nostri paesaggi di riconoscerli di individuarli e di provare anche a pensare ad un domani di questi paesaggi quello che andiamo a raccontarvi dicevo appunto è parte dell'esperienza di queste sfide ancora in corso sfide che sono esercitate attraverso delle pratiche di cittadinanza attiva o perlomeno ci abbiamo provato a farle a farle diventare delle pratiche di cittadinanza attiva da dove nasce questa sfida la sfida nasce dentro un progetto che si intitola appunto inventiamo il paesaggio autori di questo progetto autori intendo promotori ideatori realizzatori sono l'osservatorio regionale per il paesaggio del Veneto il dipartimento di scienze storiche e grafiche dell'antichità della nostra università di Patavina chiaramente a questo non possono associare dei nomi dei volti che sono anche qui tra noi Benedetta Castiglioni Gia Petterle Margherita Cisani e nell'ultima fase di questo progetto anche una studentessa Deborah Barin della corso di laurea magistrale in scienza per il paesaggio e l'associazione italiana insegnante di geografia alla nostra sezione Veneto ma i veri protagonisti di tutto ciò sono circa 1200 alunni alunne di seconda della classe seconda della scuola secondaria di primo grado di 25 istituti comprensivi del nostro territorio Veneto la sfida che è stata lanciata è la realizzazione di una mappa una mappa interattiva dei paesaggi della quella del vento dietro alla sfida degli obiettivi abbastanza ambiziosi in primis il provare a favorire processi educativi che aiutino a amare il paesaggio attraverso lo stimolo di pratiche che portino la responsabilità e la cura nei confronti dei paesaggi attraverso dei meccanismi che favoriscano l'attivazione dell'immaginazione attivazione senza la quale non riusciremmo a pensare ad un domani possibile e quindi il contribuire a diventare il paesaggio del futuro per noi diventa obiettivo strategico perché è quello che ci consente poi di come dire andare a facilitare possiamo dire l'attivazione di quelli che sono i principi della convenzione europea del paesaggio un po' come ci dice una nostra una nostra alunna e lo lasciamo dire a lei la convenzione europea vogliamo dare un messaggio che quando parliamo di paesaggio non dobbiamo pensare sulla paesaggio eccezionale ma di gruppi quotidiani come questa nella nostra scuola a cui a volte non riusciamo a dare la giusta attenzione ecco proprio da qui nasce la sfida cioè nei confronti di quei paesaggi nei confronti dei quali non riusciamo a porci non riusciamo a dare loro la giusta attenzione partendo proprio da questo partendo proprio da questo i ragazzi hanno avviato il loro il loro lavoro di costruzione della mappa dei paesaggi che è visibile attualmente online perché il lavoro è iniziato nello scorso anno scolastico qui è indicato il link che cos'è questa mappa dei paesaggi che vedete pullulata di qualche cuoricino sparso all'interno della regione del Tempo è una vetrina dei paesaggi di oggi e di quelli di domani paesaggi che quei 1200 alunni alunne hanno imparato a conoscere hanno provato anche ad immaginare a progettare in parte anche a realizzare perché chiaramente come tutte le sfide valgono la pena effettivamente le poste in gioco è alta paesaggi dicevo paesaggi conosciuti paesaggi che i ragazzi hanno imparato a conoscere dopo l'attività di ricerca e di individuazione di quei paesaggi verso i quali sentivano qualcosa sentivano un'attrazione conoscenza dei territori e dei paesaggi che è nata attraverso un processo di domande di domande facilitate appunto da meccanismi di lettura analisi e interpretazione dei paesaggi dalla conoscenza all'immaginazione su questo è stato investito il grosso del lavoro delle classi perché immaginare è un esercizio di democrazia il paesaggio è uno strumento straordinario e strategico per imparare a fare questo tipo di operazione sostiene le capacità individualie collettive di partecipare alle scelte che riguardano gli spazi di vita è pratica che ci aiuta ad ancorarci nel passato a stare nel presente a guardare al domani guardare ad un domani attraverso un'opera anche professionale di progettazione quindi ragazzi si sono cimentati nel capire che un domani deve avere gli obiettivi vanno considerati gli attori vanno prese in considerazione le risorse e deve essere fatta un'attenta analisi di che cosa si vuole fare di quali sono i tempi per farla quella cosa e chiaramente si sono trovati anche a riflettere su che cosa significhi portarlo a termine quel progetto interrogandosi su qualcosa è già cambiato e allora in maniera molto pragmatica si sono resi conto che completamente in alcuni casi non era ancora cambiato nulla tranne come se fosse poca cosa il fatto di avere un progetto o perlomeno un'idea o meglio ancora si sono resi conto che era cambiato il loro modo di vedere quel paesaggio perché lo sentivano più loro un luogo un luogo da proteggere premessa che come dire anticipa il che cosa è accaduto nei giovani esploratori di paesaggi che lasciamo dire a loro lasciamo dire alle docenti che hanno preso parte e chiaramente agli alunni e alle alunne e vediamo appunto alcune esperienze le vediamo brevemente velocemente nei momenti più salienti di queste esperienze partendo dalla provincia di Vicenza e dall'esigenza fatta dalla seconda blu dell'istituto comprensivo il tessitore di Schifo lascio la parola a Giulia grazie Sara sì io ho proposto alla mia classe seconda blu questo questo progetto e l'abbiamo portato avanti insieme al professore di educazione d'immagine e alle due insegnanti di di sostegno della classe e ho cominciato ecco vorrei più che mostrare che cosa hanno prodotto i ragazzi raccontare velocemente quali sono stati quali sono state le modalità con cui l'ho proposto ho naturalmente presentato il progetto e poi ho dato questa consegna nella classroom di individuare appunto a Schio un paesaggio di cui vorrebbero prendersi cura come classe e quindi appunto sono arrivate diverse diverse proposte che i ragazzi hanno presentato alla classe hanno localizzato il luogo hanno mostrato il paesaggio lo hanno descritto e hanno spiegato ai propri compagni perché avrebbero voluto che la classe si prendesse cura proprio di quel luogo lì e non di altri mostro solo alcune delle proposte fatte avevano tutte una valenza fortemente naturalistica quindi il campo coltivato vicino all'abitazione il bosco vicino alla scuola c'è stata una proposta che aveva un valore più anche storico architettonico che era il parco del castello di Schio ecco che naturalmente io avrei preferito che vincesse questo però non è stato così i ragazzi appunto hanno votato e il vincitore è stato il parco Lioi una scelta che sinceramente appunto mi ha inizialmente un po' deluso e sono stata mi ha sfiorata l'idea anche quasi di far saltare la votazione ma insomma alla fine non mi sembrava corretto per cui ecco veramente è stata una scelta partecipata e per i ragazzi l'hanno scelto più che altro per un valore affettivo e quindi molto bella diciamo la fase delle scelte è stata veramente interessante un altro momento significativo è stato il sopralluogo è stato innanzitutto significativo perché è stata la classe che per prima è uscita dopo un anno e mezzo nel nostro istituto e quindi erano galvanizzati da questa da questa uscita a piedi che insomma comunque non è incinissimo la nostra scuola quindi abbiamo impiegato tutta la mattinata siamo usciti con i professori di arte con i professori e con gli altri docenti abbiamo fatto un lavoro a gruppi e soprattutto è stato interessante perché sì nella carta vedevamo che c'erano questi due torrenti e il parco sorge nella confluenza però la presenza dell'acqua sicuramente ha dato un valore ancora più forte a chi non lo conosceva il parco e quindi diciamo molti lo hanno apprezzato in questo momento abbiamo fatto questa fase progettuale seguendo le domande proposte dal inventiamo il paesaggio dal progetto siamo stati aiutati anche in questa costruzione della mappa che è molto efficace graficamente perché appunto avevamo il professor di educazione all'immagine è interessante appunto notare come i ragazzi si sono resi conto che a loro piace proprio è piaciuto il fatto di prendersi carico di questo parco per farlo amare anche agli altri è proprio diventato il loro parco due minuti anche per voi a chiudere per favore ok scusate allora vado avanti appunto gli obiettivi voi pure possiamo andare avanti velocemente c'è stato poi il momento del coinvolgimento dell'amministrazione comunale un altro momento fortemente diciamo di impegno civico dove hanno capito come approcciarsi anche a un'istituzione hanno capito che facevamo sul serio perché il sindaco è venuto a scuola ed ha ascoltato appunto tutta la proposta le nuove sfide sono quella di fare un gemellaggio con le altre classi che hanno partecipato al progetto di monitorare l'amministrazione e anche appunto di diciamo presentare lo stesso progetto anche su tutte le altre proposte scartate dagli altri compagni mi fermo e lascio la parola agli miei colleghi facciamo un un salto nella provincia di Verone andiamo a Valeggiù su Mincio a scoprire brevemente insomma che cosa è accaduto lì tra i classi coinvolte Isa Pazzini come docente referente per il progetto grazie Sara buonasera per noi questo progetto ha avuto una profonda valenza di coinvolgimento nel senso che i ragazzi si sono sentiti veramente protagonisti del loro territorio si sono sentiti ascoltati io inizio presentandovi l'esperienza della classe che effettivamente ha avuto una ricaduta progettuale sul territorio tre compagni di classe hanno coinvolto tutti gli altri nell'analisi di aree giochi e hanno evidenziato non solo ciò che era danneggiato ciò che normalmente mancava ma soprattutto hanno evidenziato il fatto che solitamente non vengono previste delle strutture per ragazzi della loro fascia d'età e quindi hanno realizzato un progetto relativo a una pump track quando me l'hanno detto io ho detto scusate cos'è e quindi hanno fornito tutta la documentazione oltre che i costi per mostrare l'utilità di queste piste dedicate ad attività fisiche che si possono compiere grazie alle biciclette che sono delle piste modulabili e quindi adattabili a differenti contesti quello che ha entusiasmato i ragazzi è stato che quando è stata costituita alla fine dell'anno una commissione con la dirigente scolastica il vice sindaco l'assessore all'istruzione un architetto referente dell'ufficio tecnico il vice sindaco ha detto ai ragazzi dopo aver ascoltato tutti i progetti anche quelli che vedrete successivamente che si erano posti il problema come amministrazione comunale della mancanza di spazi dedicati ai preadolescenti con delle strutture destinate a loro e che nemmeno loro sapevano dell'esistenza delle piste di pump track hanno trovato quest'idea molto valida e quindi hanno promesso ai ragazzi che non solo la pista verrà realizzata ma verrà realizzata in un'area più vasta rispetto a quella che loro avevano individuato quindi i ragazzi hanno sentito ascoltate le loro esigenze e hanno avuto anche una risposta diretta dall'amministrazione comunale ma l'amministrazione comunale non ha dimostrato solo una capacità di ascolto e una capacità operativa ma soprattutto ha dimostrato attenzione verso tutti gli studenti perché nelle altre due classi abbiamo strutturato il lavoro in maniera differente grazie grazie chiedo scusa veramente alla professoressa Fazzini ma devo rimandare il resto della comunicazione agli atti perché altrimenti siamo oltre mi spiace ma in questo modo appunto diamo spazio a tutti e ne guadagna per la riccardo se possiamo dicendo che queste scuole tutte quelle che hanno fatto pratica di paesaggio durante l'anno scolastico hanno chiaramente ottenuto il titolo di scuola vita del paesaggio un onere particolarmente impegnativo perché a queste scuole viene affidata la continuità del progetto grazie vi ringrazio è un'esperienza molto importante che fotografa anche l'importanza e la necessità dell'azione e dell'interazione dei contesti nel momento come avete sottolineato più volte ragazze e ragazzi vengono rese protagonisti e il movimento in questo caso si può intendere benissimo come l'intraprendere un percorso che li porterà a essere cittadini e cittadini attivi e consapevoli e questo è un aspetto importante così come l'appartenenza declinata non come chiusura ma come cura che questo è un altro aspetto fondamentale che la geografia più di altri è in grado di mettere in evidenza e declinare dal punto di vista didattico quindi grazie scusate ancora per l'interruzione passo rapidamente la parola al professor Gambino Claudio Gambino che ci presenta una comunicazione dal titolo spazi di movimento dalla ricerca alla didattica verso nuove frontiere di mobilità sostenibile sì grazie Riccardo grazie al presidente un grazie anche al presidente dell'AGEI e a tutti i colleghi che hanno collaborato in particolare i colleghi dell'Università di Pato per la realizzazione di questo importantissimo congresso arrivato alla sua trentatresima edizione mi rendo conto tra l'altro che questo internoto anche per l'AIG assuma un significato particolare perché all'Università di Pato e al congresso geografico di qualche decennio fa è legato alla stessa fondazione di AIG visto che il tempo è limitato se mi consentite vorrei partire proprio dal dalle fasi iniziali primordiali di organizzazione di questo congresso perché nelle diverse campagne comunicative inerenti proprio alla presentazione del trentatresimo congresso geografico italiano direi in maniera opportuna dirà attraverso i canonici canali sia accademici quanto diciamo sociali i colleghi geografi dell'Università di Pato ai quali va tra l'altro tutto il mio apprezzamento e ringraziamento per aver organizzato questo amicamento con grande onestà intellettuale diciamo non hanno mancato di sottolineare il paradosso di un congresso nazionale dedicato alle geografie in movimento ma pianificato ecco stiamo vedendo anche realizzato necessariamente saggiamente all'interno diciamo di un prolungato arco temporale che di fatto cosa ha innescato apposto una brusca netta frenata a quella che sembrava essere l'inarrestabile ascesa di quella che possiamo definire l'iper mobilità un fattore che negli ultimi anni non solo è stato oggetto diciamo di un interesse scientifico privilegiato ma ha di fatto anche costituito una tangibile condizione socio-spaziale rimessa però in discussione da che cosa da una pandemia che con buona probabilità alla fine del suo ciclo quando avrà termine non avrà uguali storici tra quelli che potremmo considerare i suoi pari ma proprio in virtù diciamo di un contesto appena descritto che è a tutti noi noto ciò che può superficialmente sembrare o avvicinarsi al citato paradosso è in realtà mi avviso un'azione ragionata e ragionevole perché perché superata la fase emergenziale dettata dalla straordinarietà diciamo di uno stravolgimento epocale diventa assolutamente necessario indispensabile fermarsi a riflettere guardando se possibile alla pandemia secondo una nuova prospettiva e considerandola come quelle che alcuni definiscono un incubatore di apprendimento quindi un luogo dal quale poter apprendere e trarre eventualmente nuovi spunti e prospettive in linea generale possiamo affermare che la ricerca scientifica legata allo studio delle grandi pandemie si muove seguendo quattro canonici assi principali in primis ovviamente quello legato alla medicina clinica ovvero inerente quelli che sono i percorsi diagnostici e terapeutici delle patologie associate al virus poi in secondo luogo quella nella prospettiva epidemiologica che spazia dai comportamenti biologici alla capacità soprattutto di propagarsi di propagazione del virus poi il terzo asse è quello che possiamo circoscrivere alla salute pubblica quindi con l'obiettivo con il fine di contenere questa propagazione del contagio e di ottimizzare anche soprattutto l'utilizzo o l'incremento dei presidi sanitari e infine l'asse che maggiormente ci riguarda ovvero quello delle scienze umane cosa fanno le scienze umane in questi casi indagano quelli che sono i numerosi diversi eterogenei aspetti attraverso cui si declina alle diverse scale aggiungerei l'impatto pandemico sulla collettività sulla comunità sulla società la geografia quindi come tutte le altre scienze umane partecipa attivamente a questo che è un movimento conoscitivo guardando alla geografia italiana ad esempio in una prima fase la risposta la nostra risposta abbiamo partecipato in tanti attivamente ed è stata una risposta opportuna e tempestiva come forse raramente siamo riusciti a fare è stata indirizzata verso la mappatura della diffusione spaziale del virus attraverso una puntuale ricostruzione cartografica di quelli che erano i contagi quelli che erano il tasso di mortalità territoriale i tempi di propagazione i focolai i detonanti e di contro le aree di resilienza tutto questo si è concretizzato visto che siamo ospiti attivamente ne facciamo parte dell'Algein quello che è il famoso attrante covid a cui tanti di noi insomma hanno dato il loro contributo andando avanti poi in questo periodo così particolare molti geografi sono passati ad indagare le conseguenze territorialmente diciamo distinte della pandemia sulle comunità insediate in primis un focus importante con ampia letteratura che già abbiamo a disposizione è stato dedicato a quel comparto che da un punto di vista geconomico ha subito maggiormente l'aggressività pandemica ovvero il turismo non ci siamo poi fermati lì perché diciamo abbiamo spaziato verso ulteriori declinazioni e in tal senso mi corre l'obbligo e anche il piacere di citare Angelo Turco e Riccardo Morri perché si è creato un movimento in grado di generare una teoria geografica dell'epidemia secondo una proiezione che si sta sforzando che è tutto rinessere diciamo di dare una legislazione tanto scientifica quanto sociale utile ovvero la scienza è utile alla società andando ora a valutare magari anche rapidamente quello che è il nostro caso studio specifico che è poi oggetto di questo congresso diremmo nelle varie sessioni nei vari internodi dobbiamo provare a sforzarci di adottare nuove più pragmatiche prospettive sia da un punto di vista didattico che da un punto di vista della ricerca e inquadrarle preferibilmente in quella che chiamiamo comunemente public geography alla quale in maniera dicevi oculata molti di noi aspirano quantomeno per cercare di consolidare o forse sarebbe meglio dire di promuovere nel caso dell'Italia quel ruolo di utilità sociale che purtroppo solo di rado viene riconosciuto alla nostra competenza e alla nostra professionalità di geography la nuova sfida è quindi quella di far fronte a quella che è un'esigenza che però anche e soprattutto abbiamo la possibilità di far diventare un'opportunità cioè quella di ripensare secondo nuove e manifeste necessità quelli che sono gli spazi di mobilità così la pandemia che ha ancora un un forte impatto sui trasporti sui viaggi su tutto ciò che per l'appunto possiamo chiamare definire mobilità può anche aprire la strada a quelle che possono essere delle nuove e più sostenibili tendenze se guardiamo rapidamente a quelle che sono le origini della nostra disciplina la geografia per tradizione quasi millenaria si è occupata preferibilmente diciamo di ciò che ha una certa stabilità nello spazio terrestre e che appartiene altresì a scale temporali di lunga durata ma concretamente confrontarsi con lo spazio sollecita il nostro dinamismo sollecita il dinamismo fisico cognitivo sensoriale culturale sociale economico questo perché perché va a creare quella che è tangibilmente un'esperienza assoluta così nella più recente diciamo evoluzione concettuale il tema della mobilità vive l'emergere di quello che è un nuovo paradigma interdisciplinale trasversale orientato verso quella mobility turn in grado di superare quello che era uno scoglio ovvero i rigidi confini segnati dalla dicotomia scientifica esistente ad esempio tra ciò che ricerca nell'ambito nel campo dei trasporti e ciò che invece è ascrivibile alla ricerca delle scienze geografiche risolutive in tal senso è stato nel tempo il contributo della geografia britannica che ha definitivamente aperto gli studi sulla mobilità in ambito geografico e ha dato seguito almeno in parte a quelle che erano già prospettive che possiamo definire pionieristiche come quelle riconducibili alla geografia fenomenologica della fine degli anni settanta e che presentava in qualche modo una rielaborazione non ordinaria di quella che era l'idea stessa di movimento come primaria artefice preposto a costruire l'esperienza stessa dello spazio attualizzando ulteriormente a quello che è il tempo che viviamo anch'esso contraddistinto dal dualismo tra macrourbanizzazione del pianeta la mondializzazione e quelli che sono invece i nuovi processi di localizzazione l'esperienza nello spazio direi con ancora maggior frequenza non si costituisce né si può limitare a soli punti statici ma diventa quello che è un esperienza di movimento un'asse di comunicazione fra esseri umani e le diverse forme di paesaggio e così ti chiedo scusa siamo in conclusione sì allora vado a concludere in sostanza esiste una geografia di movimento che va anche in contraddizione con tutto quello che era considerato privo di luogo tutto quello che Auger definivi non luoghi perché in quei non luoghi per andare a concludere si creano dinamiche di movimento possono essere simboliche fisiche virtuali metaforiche e che mettono in connessione una moltitudine di soggetti una moltitudine di persone quindi c'è una partecipazione in loco che è in movimento anche se può sembrare quasi uno simono e anche in tale prospettiva e concludo così come in molte altre circostanze per dirimere le complesse interdipendenze tra queste nuove forme di mobilità e quelle che sono le loro conseguenze spazio-temporali assume grande rilevanza quella che è l'educazione alla cittadinanza per il resto diciamo vi rinvio al paper grazie 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 molte il nostro ruolo è davvero scomodo in questo in questo momento sì devo dire che io ti ringrazio perché ci ricordi di guardare l'albero dalla parte della radice e mi rifaccio anche un pochino a quegli spazi dimenticati oggetto di studio che David prima ci ricordava l'interstizio di un vagone piuttosto che quei dettagli apparentemente insignificanti dove noi geografi riusciamo ad intravedere qualcosa e nella relazione educativa questo è estremamente interessante perché ci sono relazioni ci sono corpi ci sono movimenti all'interno delle nostre classi che se visti non in maniera canonica mettono a fuoco dei paesaggi dell'integrazione e della valorizzazione che forse noi insegnanti di geografia più di altri riusciamo a cogliere grazie mille passo dunque la parola a Carlo Guaita e Riccardo Russo per la loro riflessione dal titolo tracce scusate gioco di parole di riflessione per l'integrazione didattica tra testo e immagini nella prospettiva della cittadinanza globale poco fa abbiamo provato con con Riccardo eccoci eccoci qui eccoci qui Carlo grazie bene buongiorno a tutti voi come detto prima Riccardo Morri la mia presenza qui è un po' particolare perché non sono un ricercatore accademico il mio ruolo è quello di editor presso una casa editrice che da molti anni cerca di lavorare con sensibilità per portare i risultati della ricerca geografica all'interno dei libri di testo libri di testo tanto contestati spesso visti come un semplice prodotto commerciale ma non sono qui per parlare di questo argomento naturalmente la proposta che farò riguarda per l'appunto la progettazione editoriale come avviene come è avvenuto in un caso specifico ben delimitato un tratto della progettazione editoriale che riguarda un testo per il biennio della secondaria di secondo grado uno dei testi più sfidanti in assoluto quello che si rifà come dire che si riferisce agli istituti tecnici e professionali dove la geografia viene insegnata per una sola ora alla settimana una presenza bella da un lato e disarmante dall'altro lato perché pone i docenti che sono chiamati a lavorare in questo settore specifico di fronte a una serie di problematiche enormi di cui sono consapevole avendo parlato varie volte con diversi insegnanti e autori di questo specifico settore la domanda anche nostra come editori è quella di capire un po' come orientarsi di fronte a un monteore così ridotto di fronte a un'utenza che in certi casi direi è problematica allora noi ci siamo mossi per questo testo che è appena uscito che si intitola lettera dalla terra su tre direttrici allora una è quella di schiudere possibilità nuove possibilità di confronto con il diverso ma con il diverso per davvero con qualche contesto geografico etnografico sociale che grazie ai filmati ai mezzi digitali è possibile in qualche modo raggiungere il secondo aspetto è quello dello studio della geografia come esplorazione chiaramente il tema del coinvolgimento di quanto possa essere significativo lo studio della geografia è fondamentale per i docenti fondamentale anche per noi editori alla fine perché è inutile pubblicare dei libri che siano la copia di libri precedenti sarebbe un danno per tutti per noi in primo luogo di libri ne pubblichiamo in continuazione di buoni manuali ne esistono tanti devo dire quello che a me sembra e su cui ho cercato di coinvolgere diversi collaboratori che hanno partecipato alla stesura di questo testo e poi vedremo Riccardo Russo che è chiamato in causa e qui partecipa alla comunicazione che sto facendo in quanto autore dei clip video che sono integrati con il libro di testo condividono insomma con me il fatto che la geografia deve essere un'avventura della conoscenza quindi attraverso la geografia non solo si conosce il mondo ma si conosce meglio se stessi sembra una banalità anche sconcertante ma non è così perché per realizzare questo per fare in modo che questo avvenga tramite uno strumento come il libro di testo servono sforzi molto grandi naturalmente il ruolo del docente poi lo vedremo è molto importante l'importante è il ruolo degli studenti se non c'è la loro disponibilità non si modifica niente però sicuramente il docente ha un ruolo centrale vedremo quale e poi per quanto riguarda le sfide che ci attendono l'emergenza climatica ma anche tanti aspetti geopolitici su cui non non mi diffondo il libro di testo ha una importanza fondamentale sappiamo benissimo per esempio che tanti docenti utilizzano il libro di testo come strumento di autoformazione e di autoaggiornamento quindi la nostra responsabilità come editori è quella di presentare risultati della ricerca approfondimenti che siano precisi aggiornati e via dicendo entriamo nello specifico cioè come è fatto il libro che abbiamo pensato in quattro sezioni in quattro grandi sezioni che voi qua vedete la prima riguarda gli aspetti geofisici geomorfologici la seconda la demografia la cultura le istituzioni sovranazionali la terza l'antropocene tema centrale oggi come oggi ci sono tutte le contraddizioni tutte le esplosive contraddizioni del giorno d'oggi le considerazioni anche critiche che riguardano l'economia il modo di sviluppare le relazioni tra uomo e ambiente eccetera e alla fine una quarta sezione che vuole dare voce a tutti gli sforzi che si fanno per rendere la vita umana più equa e per difendere il pianeta per ciascuno di questi di queste sezioni abbiamo lavorato per mettere a disposizione un video di una durata né eccessiva né troppo breve che si ponesse come un racconto della vita di una società lontana dalla nostra questo per fare in modo che si possa uscire da sé per poi ritornare diversi come si fa beh da un punto di vista editoriale si producono delle pagine che non siano fitte di testo cioè dove l'aspetto manualistico ceda il passo a una a un lavoro diciamo così eh analogico in cui si cerca di raccontare di esporre in un modo fluido quello che avviene altrove e in cui siano le immagini a raccontare più che le parole eh Carlo perdona mi considera che avete un paio di minuti eh se volete anche i video allora come avviene dopo si forniscono ai docenti dei materiali eh specifici quindi degli approfondimenti che riguardano sia le questioni generali in gioco sia quello che ehm i popoli di cui si parla vivono delle domande perché come si diceva prima come si accennava il ruolo del docente è quello di coordinatore non di esperto che deve esporre qualcosa in modo definitivo è una bibliografia ecco prima di parlare delle conclusioni direi che Riccardo può mostrare qualche spezzone dei video vediamo se riusciamo Riccardo ci fermeranno probabilmente mentre è in corso la proiezione però vi mando un estratto che abbiamo preparato magari poi riusciamo a commentarlo a Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Grazie Riccardo, intervento qui prima che cominci, così abbiamo voluto vedere... Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. La ricostruzione storica dell'educazione geografica e la sostenibilità, il database degli articoli di ambiente, società, territorio, geografia nelle scuole. Qui come oggi siamo pienamente, evidentemente coinvolti, quindi ringrazio Chiara per la sua proposta e le lascio la parola. Sì, 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 sì. Ok, scusate, ho un problema tecnico. Ok, adesso riesco a condividere anche lo schermo. Scusate, ci arrivo, eh. Scusate, anche questa modalità a distanza è estremamente emozionante, l'occasione della, eh, assolutamente del congresso. È un po' basso l'audio, Chiara, perdonami, adesso non so se sono io, ma mi sembra un po' basso l'audio. Ok, proviamo, mi sentite meglio? Microfono, mi sentite meglio? Molto meglio. Ok, tutta una serie di problemi tecnici che, eh, purtroppo sono un po' del, del periodo. Quindi, eh, grazie davvero a tutti, ehm, eh, io parto subito, allora, eh, presentando quello che è l'obiettivo di questo mio intervento, ovvero quello di, eh, presentare lo stato dei lavori di quello che è, eh, un progetto di ricerca, eh, cofinanziato, appunto, da AIG e che, eh, è volto proprio a mettere, rimettere in circolazione il patrimonio di conoscenza, eh, che è rappresentato dalla rivista, eh, notiziaria, rivista dell'AIG che si pubblica dal 55, di cui il Museo di Geografia, che è proprio il contesto, eh, all'interno del quale si svolge la mia, il mio assegno e dai cui depositi, eh, forse ve ne state accorgendo, vi parlo, ehm, possiede, eh, integralmente, ehm, e illustrare alcune sue possibili applicazioni al tema che oggi è oggetto della sessione, eh, se ci sarà tempo, perché un po' l'ho perso l'inizio. Allora, eh, due parole sul notiziario, abbiamo detto, sentito più volte ripetere oggi che proprio a Padova nel 54 nasce l'AIG, eh, nel 55 in dicembre si pubblica per la prima volta il notiziario col titolo La Geografia nelle scuole, e nell'81 il notiziario, 1981 diventa una rivista, nell'87 il titolo cambia in Geografia nelle scuole e cade quindi l'eticolo, nel 2001 cambia ancora in quell'ambiente, società, territorio, geografia nelle scuole con cui ancora oggi lo riceviamo. Eh, nello specifico il mio progetto di ricerca, eh, parte da una, una fonte, eh, importantissima, eh, che è sia, eh, fonte ideale, cioè l'indice dei primi 25 anni della rivista curato da Elio Migliorini nel 1980, ma che è anche una vera e propria fonte, eh, materiale, concreta, perché proprio dalla scansione dell'indice, eh, è partito tutto il lavoro, l'indice scansionato, le informazioni derivate dall'indice scansionato sono state distribuite in quello che è il primo obiettivo del progetto, cioè la costruzione di una grande banca dati degli articoli appassi sulla rivista, eh, interrogabile secondo molteplici chiavi di ricerca, ma anche, questo è il secondo binario, digitalizzare, rendere interamente riferibili i numeri del notiziario e rivista, eh, che sono stati, appunto, digitalizzati anche con tecnologia OCR e quindi, eh, ci sarà la possibilità anche di fare ricerca diretta sul testo. Un lavoro che si trova non ancora, diciamo, alla metà del tempo a sua disposizione, visto che è biennale, che è partito il primo novembre del 2020. Ecco, più o meno come si struttura il database, quindi potete vedere che nella parte di sinistra sono gli elementi, diciamo, anagrafici degli articoli, nella parte centrale inizia, diciamo, la parte più critica del lavoro, ovvero la distribuzione degli argomenti trattati negli articoli in aree tematiche che consentiranno poi una ricerca per temi. Abbiamo, diciamo, si è ipotizzato una, fino a tre macro aree tematiche, vista la, eh, interdisciplinarità di, eh, molti di contributi, ovviamente, eh, e nella parte invece di destra, eh, eh, si, eh, si lavora principalmente sulla, eh, localizzazione spaziale dei contributi quando esiste, perché una delle finalità, eh, un'altra degli output sarà la realizzazione di un WebGIS interrogabile degli articoli, eh, come vedete, quando la scala del, eh, è una scala locale, abbiamo inserito anche latitudine e longitudine. Eh, l'altro binario, eh, di, eh, lavoro è, appunto, la scansione. Questo che, eh, state vedendo è uno screenshot della cartella dive in cui, eh, sono, eh, eh, presenti fino a questo momento, i, eh, i numeri fino al 1980. Qui siamo arrivati con la, con la scansione dei testi. Sono già disponibili se a qualcuno servissero, eh, quindi assolutamente non, non ci sono problemi. Avrete la mia mail alla fine della presentazione o comunque è facile recuperarla. Eh, invece per il database siamo arrivati, eh, al 91. Parlo al plurale perché ho avuto il piacere di, eh, coordinare un piccolo gruppo di tirocinanti, eh, che forse avete, eh, eh, conosciuto perché hanno tenuto anche un'erberica sui canali social del Museo di Geografia e di AIG, eh, che mi hanno dato una grande mano sia nella compilazione del database, sia nelle fasi di scansione. Eh, le ricerche che saranno possibili effettuare saranno quindi per parole chiave sul titolo, eh, dei contributi direttamente nel database, ovvero direttamente sul testo, proprio perché attiva la funzionalità Full Text Research, eh, ma anche impostando degli opportuni filtri sul database, anche per tema, per autore, per anno, per area geografica, eh, ci sarà poi la possibilità di fare una ricerca per località specifica sul WebGIS e anche quella di combinare più filtri. Eh, ci tengo a dire che l'interfaccia web che avrà tutto questo, eh, è ancora da sviluppare, ma può contare, eh, lo sviluppo su un piccolo, un piccolo, no, un importante contributo ulteriore che ha avuto, eh, un progetto di ricerca che va a integrazione di questo da parte del, del Dipartimento che è volto proprio a sostenere la mobilizzazione, eh, sul Web di quelli che sono i risultati del, del progetto di ricerca a cui sto lavorando. Quindi, insomma, eh, questa è una buona notizia che volevo condividere. Eh, proviamo, eh, a mettere un po' alla prova questo strumento, eh, dicevo, sui temi, eh, di cui ci stiamo occupando. Ehm, quindi cercando di capire, eh, eh, come all'interno di quello spazio ideale di confronto tra i docenti di geografia dei vari ordini, eh, è nato e come si sono, eh, si è sviluppato, come si sono sviluppati temi che, eh, sono sfociati in ciò che noi oggi, eh, chiamiamo educazione alla cittadinanza globale con lo specifico focus, per ragioni chiaramente di tempo, sulla eh, sostenibilità nella sua declinazione ambientale. Visto che vi ho detto che i, gli articoli sono stati scansionati fino all'ottanta e il database aggiornato fino al novantuno, si tratterà quindi di concentrarsi sulla genesi di questo, di questo, di questo processo. Ehm, allora ecco, in estrema sintesi vi riporto alcuni, eh, risultati, eh, che possono avere, eh, un valore di, di, il valore di innescare riflessioni, eh, a partire da quelle che sono le, eh, alcune però le chiave su cui, eh, ho provato a fare ricerca. Ovviamente la parola sostenibilità ai derivati, essendo il concetto nato, eh, diciamo, è stato definito nell'ottantasette da Puerto Beruntland, non può, eh, eh, dare dei risultati utili nel full text research fino al millenovecentottanta. Ma è interessante che anche in una ricerca per chiave lessicali sul titolo, e quindi arriviamo fino al novantuno, non ci sono contributi che abbiano loro, all'interno del loro titolo la parola sostenibilità e sostenibile. E questo, nonostante, eh, se facciamo invece una ricerca, eh, sui derivati, sulla parola ambiente e derivati, eh, troviamo che se, eh, ricerca solo sul titolo, perché sul full text ovviamente c'è una mole di risultati che non è utile, eh, troviamo che nei primi venticinque anni ci sono cinque numeri, cinque articoli che hanno la parola, eh, ambiente o ambientale nel, eh, nel titolo e quarantasette invece nei, eh, nei dieci anni successivi, nella fase 81-91. Eh, quindi il tema ovviamente non è sempre solo protezione dell'ambiente, ambiente è un termine che ha una mobilità e una, eh, ampiezza di significato, però è sicuramente un dato interessante, eh, anche qua, eh, da cui partire per ulteriori riflessioni. Un altro tipo di ricerca su chiave elesticale è stata effettuata su alcuni di quelli che sono, ehm, gli autori chiave nella storia della sostenibilità che ho riportato in parte nella, eh, eh, linea del tempo ai piedi della slide. E, ehm, ecco che ad esempio i due rapporti del Club di Roma vengono citati, però è interessante come sotto forma di recensione troviamo solo il primo, eh, due anni dopo, eh, della sua pubblicazione, eh, scusate il secondo, mentre il primo, il, eh, eh, Limits to Growth è citato solo molti anni dopo, eh, così come, eh, altri autori sono citati saltuariamente. Qui è possibile che ci sia anche un problema, eh, viene da pensare anche di natura linguistica, eh, ad esempio Erlich e il suo, eh, la sua bomba demografica viene citato, eh, nell'edizione tedesca del 71, nel 79 e non nell'edizione originale del 67 in inglese. Sono tutti spunti di riflessione per chi, eh, lavorerà, eh, e farà una ricerca eventualmente su questi, eh, aspetti. Ehm, ovviamente le ricerche su filtro tematico sono, eh, perdonami, eh, ancora una volta al mio, ancora un paio di minuti. Ok, no, sarà velocissima, grazie, grazie mille. E i filtri tematici sono ovviamente, eh, filtri che, eh, restituiscono dei risultati molto più complessi, eh, ed è, eh, io sapevo benissimo di non avere il tempo per restituire in questo, eh, nella fase della presentazione orale l'articolazione di, eh, di risultati e, eh, ancora una volta di, eh, di riflessioni che innescano, eh, che queste innescano. Eh, brevissimamente impostando il filtro della geografia economica, eh, e lavorando soprattutto sul sottotema, ad esempio, delle risorse energetiche, eh, in un'Italia che, eh, 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 negli anni cinquanta e sessanta sta vivendo un suo boom, eh, economico, eh, il tema delle ricadute ambientali, dell'asfruttamento delle risorse e della loro risarrabilità non è chiaramente un tema. Inizia a essere un tema, questo, negli anni settanta, eh, ho citato alcuni degli articoli, quelli trovate in bibliografia, eh, quando notiamo già una coerenza cronologica molto stretta con quello che succede a livello internazionale, per cui si cita puntualmente nel settantadue la conferenza di Stoccolma, quindi non parlando più di testi come nel caso degli autori citati prima, ma di grandi eventi, eh, occasioni anche politiche, eh, e non solo, insomma, allora sì che l'allineamento cronologico con quello che succede anche fuori dall'Italia, eh, lo ritroviamo. Per quel che riguarda la geografia dell'ambiente, il tema dell'ambiente, eh, qui, eh, nell'accezione di protezione dell'ambiente iniziamo a trovare già dagli anni sessanta dei contenuti, eh, Morandini nel sessantatei in un suo, eh, in una sua lezione riportata, eh, parla della necessità di proteggere la risorsa mare, eh, Formica nel sessantaquattro, parla di disboscamento di sesso idrogeologico, quindi è molto interessante come, eh, si parta da realtà, attenzione a, a problematicità ambientali che sono strettamente, eh, sentite dal territorio italiano e poi però, eh, ci si apre con gli anni settanta a una dimensione a scala globale con l'inquinamento del, l'articolo, gran, importante articolo dedicato all'inquinamento dell'acqua e, eh, l'anno dopo, eh, l'inquinamento dell'aria con cui, eh, Pinna inaugurò le annate, proprio il primo articolo dell'annata del settantaquattro e del settantacinque e negli anni settanta sono sempre più, i, eh, gli articoli che, eh, partecipano delle due macro categorie tematiche, la didattica e la geografia dell'ambiente, quindi diventa veramente un tema anche, eh, direttamente, eh, in modo, eh, eh, applicato alla scuola. Il tema della geografia fisica e della climatologia e glaciologia in particolare è interessantissimo, non ho qui l'occasione di, eh, non ho qui il tempo per raccontarvelo, ma vi leggo questa piccola riflessione sintetica che ho fatto e che emerge tutta la complessità del fare sintesi e proiettare sul futuro la mole crescente di dati, eh, su cui pesa sempre più l'inedita componente antropica, per cui negli articoli che cito molto spesso, eh, la visione dal nostro punto di vista di piena emergenza climatica, eh, restiamo perplessi perché vediamo come negli anni sessanta si parli ancora di una fase di raffrescamento, si parli ancora di, eh, e anche negli anni settanta, eh, di ghiacciai che si, che si vanno, tendenza a, che va a invertirsi verso una, ehm, un aumento, eh, del, dei, 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 dei ghiacciai, ehm, anche se poi con gli anni ottanta allora sì che, eh, l'impatto antropico è sentito, eh, è visto come qualcosa di, eh, minaccioso, eh, negli articoli tanto di Pinna quanto di Zanon, ho scritto sessanta quattro ma è sbagliato, è Zanon ottantaquattro. E basta, mi fermo e ho sicuramente sforato anch'io, scusate, eh, grazie a chi mi ha aiutato, eh, mi sta aiutando e a tutti voi per l'attenzione. Chiara, grazie mille davvero, siamo tutti molti incuriositi e vogliamo la tua mail, se cortesemente la metti nella chat. Sì, sì, sì. La tua promessa, io so che molti, molti di noi siamo, sta, sta elaborando questa da parte perché davvero, eh, è un bene prezioso e un patrimonio estremamente interessante. Grazie, grazie mille. A me l'onore e il piacere di dare la parola ad un amico, Andrea Guaranna, che tra un attimo comparirà con la sua presentazione e sostenibilità come attestazione, scusate, di cittadinanza globale. Eccomi, buonasera. Spero vediate, provo a mettere, ecco, vedete? Sì, ottimo. Perfetto. Allora, mi associo agli altri rapidamente per i ringraziamenti ovviamente alla GEI, all'AIG e all'Università di Padova, ai colleghi geografi dell'Università di Padova, diversamente da qualche contributo che mi ha preceduto, io non presenterò un caso di studio, un'esperienza, ma vuole essere solo una riflessione rigorosamente mobile sul rapporto tra sostenibilità e cittadinanza globale e soprattutto sull'educazione e cittadinanza globale. Parto da alcuni elementi per in qualche modo identificare cittadinanza globale, come senso di appartenenza ad una comunità, in questo caso una comunità sempre più allargata fino a comprendere tutto il pianeta, centrale però nella sostenibilità globale è valutare le relazioni tra le diverse scale e la capacità di riuscire a gestire le relazioni transcalari e un obiettivo fondamentale è quello di poter conseguire comportamenti sostenibili e solidali e già questo termine, questo obiettivo sostenibile appunto richiama il rapporto molto stretto tra cittadinanza globale e sostenibilità. Implica ovviamente poter conseguire, rafforzare, mantenere, esprimere, praticare poi consapevolezza globale e competenze globali. Alcuni nodi però iniziali da sottoporvi è quello, quando si parla di cittadinanza globale, un primo complito è riuscire appunto a far dialogare da un lato i valori locali, regionali e anche microlocali, dall'altra parte la capacità invece di identificarsi e di sentirsi parte di un contesto molto più ampio che appunto di tipo cosmopolita. L'altro elemento da considerare tra un nodo, individuato come nodo, è quello del trovare un giusto equilibrio tra la cittadinanza intesa come cultura civica, come studio, per esempio nel nostro caso della Costituzione, dei temi legati al civismo e dall'altra parte il senso di appartenenza e la pratica di cittadinanza, quella che noi identifichiamo e come vedremo poi, magari se avrò il tempo, successivamente. Un altro aspetto, scendendo sul piano strettamente didattico, educativo-didattico, è come riuscire a dare concretezza a questi principi sul terreno dell'educazione. È già il nuovo documento che riprende, che in qualche modo rielabora e rafforza le indicazioni nazionali per quanto riguarda la scuola di base del primo ciclo fino alla secondaria di primo grado, cioè il documento di indicazioni nazionali nuovi scenari nel 17, ci parla che non bisogna insegnare forse cose diverse e straordinarie, ma è importante come insegnare e come riuscire a predesporre dei percorsi che possano favorire poi le manifestazioni e le pratiche di cittadinanza. Si sviluppa dunque l'educazione della cittadinanza globale, di cui c'è una ricca letteratura anche ufficiale sia da parte delle Nazioni Unite, attraverso poi soprattutto l'Agenzia dell'UNESCO, sia attraverso l'Ocse, che parlano appunto del rapporto molto stretto tra educazione della cittadinanza globale e sostenibilità, cioè obiettivi appunto dell'Agenda 2030, della necessità di praticare la cittadinanza globale per promuovere e da promuovere soprattutto nelle scuole, non solo nelle scuole, ma ruolo centrale e nelle scuole come ben indicato in questo recentissimo testo del 2020 di questi due studiosi di scienze educative dell'Università di Ginevra appunto sull'educazione e la cittadinanza globale. Cioè i processi educativi sono individuati, così anche dall'UNESCO, come imprescindibili per poter effettivamente essere consapevoli dal punto di vista della cittadinanza globale. E dunque quali processi educativi però, con quali mezzi, mi sono chiesto. Cioè è sufficiente aggiungere contenuti di natura internazionale nel piano delle proposte educative didattiche? È sufficiente che gli insegnanti, magari sollecitati anche dei nuovi libri di testo, trattino anche un argomento che si chiama ad esempio sostenibilità o che si chiama globalizzazione al pari di tanti altri argomenti? O forse c'è bisogno di qualcos'altro? Questa è un po' la mia riflessione. Perché dico questo? Perché se noi guardiamo i dati di questo rapporto del 2020, ma era un'indagine del 2018 ai quindicenni, un'indagine OXE, i ragazzi italiani, quindicenni italiani, in qualche modo fanno a gara per posizionarsi nelle ultime posizioni dei paesi OXE assieme ai ragazzi, ai coetani della Repubblica del Sì, della Slovacchia, dell'Ungheria e della Polonia, nella capacità di comprendere le prospettive degli altri, di adeguarsi al contesto culturale, di conoscere le altre culture, di avere dei atteggiamenti che hanno nei confronti degli immigrati, pensiamo anche le ultime parole del nostro capo dello Stato, cioè siamo tutti interculturali e internazionalisti in qualche modo, occupandosi dei problemi dell'Afghanistan, ma poi l'importante è che non arrivino troppi afghani sul nostro territorio. Infatti questo giornalista nel suone 24 ore, più o meno un anno fa, alla luce proprio di questo e commentando questo rapporto, dice, gli adolescenti italiani si dichiarano in netta maggioranza cittadini del mondo, quasi l'80%, ma poi scarseggiano in quanto di interessi e attitudini che li renderebbero veramente tali. Cioè se si verifica in qualche modo è stata constatata una debolezza delle competenze di cittadinanza globale per quanto riguarda i nostri ragazzini. Allora forse l'invito è quello di ragionare, partendo proprio dalle competenze, più che partendo dai temi, ragionando su queste dimensioni della competenza globale, dimensioni della conoscenza, dei valori, delle attitudini, delle abilità e degli incroci che possiamo avere tra queste quattro dimensioni a copie per poter esaminare i problemi, per poter mettersi nei panni degli altri e capire le visioni altrui anche, per riuscire a accogliere interazioni interculturali, per poter poi agire per il benessere individuale, collettivo e dell'umanità intera e dell'ambiente dunque in termini di sostenibilità. Parlando di educazione e finanza globale, l'ECG effettivamente ci porta su tre, le chiama dimensioni, ma tre livelli importanti, fondamentali. Dobbiamo lavorare sui aspetti cognitivi, ma affiancanti a quelli, gli aspetti socio emotivi che sono fondamentali, cioè il senso di appartenenza deve essere anche costruito, deve essere accompagnato, e lo stesso la solidarietà, per arrivare poi a poter chiaramente agire consapevolmente, impegnarsi anche nel proprio contesto, anche a livello locale, avendo sempre questa connessione molto forte e pluriscalare. So che il tempo è tiranno, ma l'educazione arsidentale globale prevede sia l'inter e transdisciplinarità, l'apprendimento esperienziale, l'intersezione tra l'educazione formale, non basta solo la scuola, la scuola deve dialogare con l'educazione non formale ed informale, che poi riguardano tutti noi nel tempo estrascolastico, e soprattutto deve puntare all'azione trasformativa. Cioè deve avere un impulso trasformativo fondamentale, e allora io mi chiedo, ad esempio l'insegnamento all'educazione civica introdotto nella legge del 19 qua in Italia, sicuramente offre notevolissime opportunità, ma già sono evidenti alcuni rischi, il fatto che ci si spartisca i temi, che alcune discipline rimangano fuori, che si aggiungono solo alcuni temi da fronte, senza avere a volte un'idea invece complessiva di alcune progettualità, come ad esempio quelle che ci ha offerto prima Sarabine e le insegnanti della legge di Venezia, che sono invece trasversali a tutti gli ambiti, o possono essere trasversali a tutti gli ambiti. E qui parliamo di educazione geografica, diciamo prima l'educazione geografica è presente, ma è presente un po' scorre sotterranea di questo mio discorso, perché desidero che le discipline facciano un passo indietro, dunque anche la geografia, per quanto la geografia sia strettamente presente, sembra un po' strano che dica questo ovviamente all'interno di un congresso geografico, ma sicuramente tra i paradigmi che sono stati individuati per un'educazione trasformativa abbiamo quelli che sono elencati qua, io in evidenzio quattro, trasclarità, cronospazialità, decentramento e interdipendenza. La geografia è fondamentale naturalmente per poter conseguire e ad avere consapevolezza di questi paradigmi. Come dicono Gaudelli e Schmitt nel 18, pensare geograficamente aiuta a ricordare e a costruire in modo come ciascuno di noi si realizza nel mondo. E allora sicuramente la geografia è fondamentale, ce lo dicono anche i documenti ufficiali, la carta dell'educazione geografica del 94, ripreso poi questo aspetto nel 2016, come in maniera molto puntuale il collega forse qui presente, Puttilli, sottolineava in un suo lavoro del 2019, cioè il contributo che la geografia può dare proprio per la cittadinanza globale. Però ribadisco, il limite potrebbe essere quello di un appiattimento sui contenuti geografici, oltre a trattare il paesaggio montano, la cartografia, trattiamo anche la sostenibilità, l'intercultura. Questo a mio parere potrebbe essere un grosso rischio, alla luce poi dei risultati che abbiamo visto prima. E allora la proposta che faccio è di partire dalle competenze per la sostenibilità. L'UNESCO nel 17 articola 8 competenze che vedete qua in cerchio inserite, che non ve le leggo, competenze fondamentali per il conseguimento della sostenibilità. Il target 4-7 dell'agenda 2030 mette proprio in relazione l'educazione e la sostenibilità e la cittadinanza globale, cui c'è un rapporto molto stretto, ma come fare a dialogare? A mio parere, come Frisca e Narsio sottolineano, bisogna passare dal modello dichiarativo, scolasticamente parlando, educativamente parlando, a quello trasformativo. Io faccio solo, non vi invito a leggere, ma io ho fatto una prova sostanzialmente, l'invito ai docenti è di non partire dai temi e poi ricercare nelle indicazioni, io parlo soprattutto per la scuola del primo ciclo, di suonatore di base, e andare a ricercare gli obiettivi e i traguardi di competenza. Ma proviamo a partire, rileggiamo i documenti ministeriali partendo dalle competenze per la sostenibilità e le sue declinazioni. Andiamo a ricercare poi tutti gli aspetti, sia generali che a livello disciplinare, che riguardano in questo caso la competenza dei problemi soldi. E ritroviamo allora sì la geografia, la storia, l'italiano e riusciamo a individuare anche delle ipotesi di lavoro, che ne indicate qui due, che possono invece veder dialogare, non per le diverse discipline. Lo stesso dicasi per la competenza strategica, ugualmente, ad esempio per arrivare e poi riprogettare gli spazi scolastici o dell'isolato del quartiere, mettendo insieme l'italiano, l'arto immagine, la geografia e la tecnologia. E conseguentemente, e concludo, la mia riflessione è proprio quella centrata su questi due paradigmi, questi due concetti e valori, perché effettivamente questi due, per mobilitarli al meglio, bisogna poi attivare saperi, conoscenze, che a loro volta si traducono in competenze, che garantiscono scelte e azioni e comportamenti che siano consapevoli e trattivi. Grazie, grazie davvero Andrea. Siamo in ritardo solo di otto minuti rispetto alla tabella di marcia, quindi ringrazio, perché insomma, istante la ricchezza dei contenuti e degli interventi non era operazione agile, invece siamo riusciti. Io mi taccio, perché ci terrei chiedere brevemente un commento appunto a Matteo Puttigli e Cristiano Giorda, prima di aprire lo spazio a eventuali domande. Prego Matteo. Comincio io allora. Buonasera a tutti e a tutte. Sono Matteo Puttigli, anche se non sono un hacker, anche se figuro come Matte VG CZ1N, ma insomma, non preoccupatevi. Allora, io innanzitutto ringrazio, avendo partecipato un po' al concepimento della sessione, ringrazio molto chi ha inviato una proposta. Ecco, devo dire che è una sessione che mi è sembrata davvero molto stimolante, lo so che sembra una formalità, ma lo penso davvero. Ci sono stati molti spunti, singole fasi che mi sono appuntato, che a mio avviso mi hanno ispirato moltissimo. Magari ne cito una o due, ma tra poco farò un intervento brevissimo. Comunque, partirei dal fondo, cioè dall'interessante intervento di Andrea sul tema delle competenze, perché ascoltando tutte le presentazioni ho avuto un po' una sensazione, cioè che il tema di questo convegno è il movimento, la mobilità. E noi trattando di educazione geografica, da tempo ormai, parliamo di competenze, ma siamo ancora in movimento verso l'identificazione delle competenze geografiche che siamo chiamati a intercettare, costruire, verso le quali costruiamo percorsi educativi ai diversi livelli, nei diversi contesti formativi. Ecco, ho avuto proprio la sensazione che la geografia, nella sua componente di riflessione sull'educazione, sia in movimento. Allora, è emerso oggi in modo neccito alcune. Quali sono le competenze che oggi si sono affermate come le competenze verso quali dobbiamo orientarci, verso cui è imprescindibile muoversi? Allora, le competenze globali hanno aperto e chiuso questa sessione. Sono state le prime a essere evocate le competenze di cittadinanza, di globalizzazione e anche le ultime a essere state approfondite da Andrea. Ma nell'ambito di questa riflessione sulle competenze globali ci sono state evocate competenze di cura, competenze di futuro nell'intervento di Sara Bin, Giulia Andreanne e Luisa Fazzini. Competenze di mobilità nell'intervento di Claudio Gambino. E di nuovo le competenze di sostenibilità negli interventi di Chiara Gallanti e Andrea. Ecco, queste competenze a volte si sovrappongono, a volte si intrecciano. Andrea stesso ci ha fornito diverse definizioni di campi di competenze, profili di competenze. Allora, mi sembra che qui ci stiamo ancora muovendo noi in un territorio molto mobile, in cui davvero c'è grande fecondità, in cui ognuno ha una propria lista di, se vogliamo, di competenze, una propria agenda. Io stesso a lezione ne uso altre, simili, sovrapposte, in parte, in parte no. Ecco, questa è una grande opportunità per la riflessione geografica e quindi trovo che sia stato molto stimolante ed è bene continuare a confrontarsi. Gli strumenti, come facciamo a lavorare su queste competenze? Allora, oggi ci si è soffermati su quotidiano, ne so se siete alcune, quotidiano, avventura, esplorazione. Il tema fondamentale del territorio, ci raccontava Lorenzo Bagnoli, che alla fine, no, per educare le competenze globali, le attività sul territorio sono quelle che si sono rivelate come le più efficaci, è uno strumento più tradizionale, ma allo stesso tempo più innovativo, no, della geografia. E il visuale, che anche Riccardo ricordava, che è stato ricordato come strumento. L'incrocio, no, tra competenze e strumenti ci dà davvero l'idea di una disciplina ricca, ricca di potenzialità, che è in grado di dialogare con le priorità di oggi, il tema dell'educazione all'antropoceno, è davvero una grande ricchezza e fecondità. Allo stesso tempo muoversi, no, dentro questo campo così mutevole, così mobile, così interessante, non è semplice. Non è semplice per noi, non è semplice neanche per le persone con le quali interloquiamo, no. Allora, una domanda che, ad esempio, occupandomi un po' di formazione per l'AIC, mi pongono spesso insegnanti e presidi, verso i quali ci rivolgiamo, ad esempio i dirigenti scolastici, verso i quali, alle quali ci rivolgiamo e che ci contattano per avere percorsi formativi, no, sono molto colpiti dalla ricchezza, no, che la disciplina è in grado di offrire in termini proprio di competenze. Allo stesso tempo, no, una delle domande che rimane è che è una sfida per noi, è, ok, ma alla fine abbiamo anche un'esigenza di sistematizzazione, no? Come riusciamo a sistematizzare queste cose? Come inseriamo, no, questo universo di significati, di prospettive in un quadro che sia maneggevole, organico, che sia utilizzabile? Allora, su questo davvero io penso che ci sia grande, non è che chiama risposta, ovviamente, ad esempio l'intervento di Andrea era interessante, ma anche quello di Carlo White, ad esempio, no, che ci ha offerto la struttura del manuale, il ripensamento della struttura del manuale come una delle, no, interessanti modalità di rispondere a questa domanda, cioè di cogliere la sfida, no, della grande capacità innovativa dell'educazione geografica, però sapendo anche rispondere a un'esigenza, no, legittima, comprensibile, cioè di capacità di sistematizzare. Ecco, penso che nel muoversi tra quei, di nuovo, movimento, nel muoversi, no, in questo solco ci sia un grande campo di indagine, di ricerca, di riflessione che da qui possiamo aprire. Grazie, grazie mille Matteo. A te Cristiano. Grazie Riccardo, grazie a tutti. Mi sentite? Perfetto che sono in hotel a Roma durante una sessione del Consiglio Universitario Nazionale. Mi è fatto molto piacere poter seguire gli interventi e rivedere anche molti colleghi e colleghe che mi spiace non vedere in presenza, naturalmente speriamo di avere una occasione prossima e di organizzarla prima possibile. Intanto complimenti a tutti per gli interventi e grazie per avere anche partecipato, scelto di partecipare a questa sessione. Vorrei dire due cose veramente brevissime, perché non è nel momento né la situazione, anche un po' in risposta o in continuità con l'intervento di Matteo, perché il tema di oggi, che era quello del movimento, mi ha davvero suscitato un sacco di idee e molte in più sono venute sentendo i vostri interventi. Anche, come dire, vorrei aggiungere un rilievo un po' anche di criticità rispetto alla situazione della geografia, forse in questo un po' in continuità con quello che diceva Matteo. Noi ci troviamo oggi, la mia sensazione è che ci troviamo di fronte a un momento di grande movimento, in senso proprio metaforico anche nel mondo, e direi di rivoluzione. Una rivoluzione che un po' ci sfugge, cioè i vecchi schemi con cui interpretavamo le cose, abbiamo sentito l'intervento sui temi di geografia nelle scuole anche nel tempo, ecco tutti questi vecchi modi con cui abbiamo anche imparato, con cui siamo cresciuti, con cui ci siamo confrontati e che abbiamo anche poi rivalutato per gli aspetti innovativi che sono ancora da riscoprire, in parte oggi segnano una debolezza come la segnano in tutti i campi disciplinari, non solo geografico, i fatti che ci stanno intorno, non solo la pandemia, la crisi economica, i rapporti a scala locale e globale che non sono più né quelli con cui interpretavamo la globalizzazione dieci anni fa e nemmeno quelli con cui parlavamo di sviluppo locale dieci anni fa. Siamo alla ricerca di competenze, come dice Matteo, di strumenti, di modelli direi anche, nuovi. Ecco, siamo in una fase un po' di caos nella quale quello che mi pare un po' in forte mutamento è proprio quello che è sempre stato negli ultimi 50-70 anni il centro del mondo, nel senso anche culturale. È forse il momento di guardare meglio intorno a questo centro, di esplorare le periferie, in senso anche culturale, e di immaginare nuovi modelli. Non ho una risposta a questa, mi piacerebbe nei prossimi anni anche per me, per la mia ricerca, non ripetere le cose belle che ho detto negli ultimi dieci anni, ma scoprirne di nuove. Penso che abbiamo bisogno in questo senso non di abbandonare le cose che abbiamo fin qui definito, ma di portarle avanti, di in qualche modo di sfidare questo cambiamento anche con creatività e come dice il nostro maestro De Matteis con immaginazione. Ecco, lui parla anche proprio del pensare a una geografia che aiuta a capire il mondo e che in qualche modo si pone anche l'obiettivo di migliorarlo. E questa è sicuramente una sfida rispetto alla quale dobbiamo giocare all'attacco, non possiamo giocare a centrocampo. Ecco, non ho parole per indicare ancora questa strada, me ne vengono in mente due, ma proprio mentre sto parlando e quindi ve le lascio come spunto di riflessione. Una è semplicità, semplicità non perché il mondo sia semplice, ma perché siamo di fronte a una tale complessità che può essere compresa solo con una semplicità che ci permette di muoverci di dentro. In fondo è quello che la geografia ha sempre cercato di fare, quello di trovare degli schemi molto semplici che ci permettevano di pensare l'infinita complessità e diversità del pianeta e dei suoi spazi geografici. E l'altra è la pluralità. Stiamo uscendo da un'epoca in cui più o meno illusoriamente, forse non è mai stato così, ci trovavamo di fronte a alcuni nuclei culturali, geopolitici, economici, che erano centrali e dominavano. Ci avviamo probabilmente a una situazione di pluralità nella quale la diversità può essere un elemento vincente, ma anche che cambia tutti i giorni. Ecco, in questo io credo che se troveremo i modi di spiegare questa cosa qua e di dare degli strumenti per capirla, la geografia anche nelle scuole potrà avere un futuro anche molto appassionante. Ma ho già detto fin troppo, il piacere era quello di essere qua. Vi saluto, vi ringrazio, è stata una gran bella occasione. Grazie. Grazie, grazie di cuore a Cristiano e a Matteo. Ho chiesto in chat se ci sono domande. Andrea Guaran si rivolge a Sara Bini, alle regatrici. Si sono poste le basi per una rete tra le scuole, i docenti e gli allievi? Le raccogliamo Riccardo? Ma io andrei per ordine perché per il momento intanto c'è questa di Andrea e risponderei. Vediamo fino, abbiamo una decina di minuti scarse, quindi vai pure Sara. Grazie mille, grazie Andrea e grazie a tutti per gli stimoli. La risposta è affermativa, nel senso che è uno degli obiettivi, quello di costituire una comunità di scuole, l'idea delle scuole amiche del paesaggio ha proprio quella funzione dove queste scuole, perlomeno quelle che hanno iniziato, chiaramente non l'abbiamo detto, ma nei saluti c'era quello Inventiamo il Paesaggio Next, c'è un'edizione due e avanti, speriamo che ce ne siano molteplici negli anni a venire, perché l'idea è proprio quella di allargare la comunità e porre le basi perché queste scuole diventino trainanti al loro interno e poi nei confronti delle altre scuole. Quindi abbiamo messo in piedi un sistema che speriamo, insomma, si possa autosostenere nel corso dell'attività. Grazie per la domanda Andrea. Grazie, grazie Sara. Non so se ci sono altre domande. Non sento e non vedo chi sta parlando, chiedo scusa. Non so se tu Lorena riesci a intercettare, ma... No, nemmeno io, sento una voce... Una voce flebile in sottofondo, non capisco se è una domanda o su un microfono aperto. Aperto. Forse ho più un microfono aperto. se non ci sono domande, io, Lorena, raccogliendo le ultime sollecitazioni che venivano anche appunto da Matteo e Sara, secondo me, da Matteo e Cristiano e anche dalla risposta di Sara, secondo me resta la sfida aperta tra quella che deve essere la riflessione menta cognitiva sui contenuti e i metodi della didattica della geografia e quell'esigenza di sistematizzazione, è già stato ricordato Giuseppe De Matteis che proprio con riferimento alla didattica della geografia, ruota della geografia nella scuola segnala la difficoltà legata a una disciplina a statuto debole. E noi dobbiamo sempre aver ben presenti questi due piani che nell'innovazione c'è la necessità di rimanere agganciati, come dice John Egnio, a una comunità di realtà che è fondamentale per la geografia e per chi insegna e forma geografi e geografi e quindi a costa a volte di essere spacciati per misoneisti o passatisti rimanere diciamo ancorati ad alcune certezze perché la nostra disciplina di certezze ne ha dal punto di vista degli strumenti e dei metodi. Grazie, grazie a tutti e lascio la parola a Lorena come padrona di casa. Bene, anche io ringrazio tutti voi. Vi ricordo la visita al museo di questa sera. Vi ho anche messo il link in chat. E domani l'inizio dell'attività dei nodi alle nove. Vi ringrazio, buona serata, a più tardi. Ciao a tutti. Grazie, grazie ancora a tutti. Buona serata a tutti. Arrivederci. Arrivederci, grazie. Grazie, buona serata. Grazie, arrivederci. Grazie, arrivederci. Grazie. 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 Buonasera. Buonasera a tutti. Benvenuti a questa visita virtuale al Museo di Geografia. Vi immaginiamo belli comodi seduti sul divano, come dice Andrea Bocconi in un famoso libro, si può anche viaggiare senza partire e quindi noi vorremmo accompagnarvi in questo viaggio seduti comodi in poltrona. Non sono da solo in questa presentazione del Museo di Geografia, ma sono accompagnato dai miei validi, valentissimi collaboratori che qui vedete, vi giro. Sono Chiara Gallanti, sinistra di ricerca proprio su tematiche relative al Museo di Geografia e Giovanni Donadelli, là in fondo, mentre vedete, che è il nostro conservatore appunto e tecnico, diciamo, legato all'attività didattica del museo. Io direi di cominciare subito e chiederai alla regia innanzitutto di lanciare il primo video che si riferisce all'inaugurazione appunto del museo avviata il 3 dicembre del 2019, poco prima appunto del lockdown. Prego. Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie 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 a tutti. di tutti. Grazie a tutti. e siamo andati a visitare queste forme pseudo-vulcaniche. Naturalmente ci hanno consigliato di stare il più lontano possibile dalle zone dove veniva fuori questo fuoco. C'è sempre il più furbo, che invece si è avvicinato a una di queste, ha ceduto il terreno ed è caduto dentro fino a quattro. A settembre la fatta è l'escursione a voi. Dalla geografia delle esplorazioni che abbiamo visto poco fa, la seconda parte dell'esposizione nella sala delle esplorazioni affronta invece il tema delle esplorazioni della geografia, le piste di ricerca della geografia che chi viene a visitare il museo è sempre molto curioso di scoprire la famosa domanda che cos'è un geografo, che cosa fa un geografo che tutti ci sentiamo porre. L'argomento è sviluppato secondo tre dimensioni temporali, quindi la geografia del presente che abbiamo sviluppato grazie al contributo di tutti i geografi che lavorano a Padova. Ognuno di essi è stata chiesta una foto e una breve domanda che riassuma le principali domande di ricerca che guidano il loro lavoro di geografi. Ecco il risultato in queste schede che vediamo davanti a noi. Dal presente il discorso poi su questo cloud di parole si apre verso il futuro e questo cloud di parole sarà forse familiare a molti dei geografi italiani perché è il risultato di una story, di una piccola inchiesta che qualche mese prima di inaugurare il museo era stata proprio lanciata nella comunità dei geografi. Non so se avete già visto il risultato, ecco questo è il risultato di quella piccola grande inchiesta. Come vedete non era stata prevista la pandemia, quindi ci sono sempre nuove piste che si aprono tante volte anche ovviamente al di là delle possibili immaginazioni umane. E infine le esplorazioni del passato che si concretizzano in questo che noi chiamiamo il pozzo dove possiamo conoscere, spero che si veda attraverso il video, i geografi e le geografe che hanno lavorato a Padova, possiamo conoscere, ecco, ad esempio, lo abbiamo già nominato anche prima, Giovanni Marinelli, possiamo poi scoprire in che cosa è consistito il contributo geografico in termini di produzione scientifica dei nostri geografi. Questo è il famoso, atlante famoso, insomma, per noi, atlante delle pubblicazioni che presentammo in occasione dello scorso congresso geografico e quindi ci fa piacere mostrarvi il risultato ancora da implementare come numero di pubblicazioni, insomma, di quello di cui vi abbiamo parlato. Infine si può andare a esplorare anche la parte del patrimonio che non è esposta nel percorso museale, a cominciare dagli atlanti che si possono poi anche sfogliare oppure le grandi carte murali che ci è spesso molto difficile presentare proprio a causa delle loro dimensioni. Ecco un esempio. Sono state digitalizzate e stiamo continuando il lavoro anche con altro materiale. La speranza è di avere poi tutto questo accessibile verso anche via web e quindi anche da fuori del museo. Adesso passo la parola a Giovanni. A Giovanni che vi accompagnerà in quella che è probabilmente la sala più luminosa di tutto il museo. È una sala che anch'essa a proposito di mobilità ha cambiato varie destinazioni. Fu lo studio di Donà, lo studio poi di Zunica, sala dottorandi che molti di voi hanno abitato, conosciuto e oggi sala dedicata ai cambiamenti climatici. In particolare troviamo una sala organizzata con quattro corner in cui perno è questo globo dinamico digitale che mostra diverse animazioni legate proprio ai fenomeni del cambiamento climatico, le correnti, la distribuzione delle temperature sulla superficie terrestre. La sala è dedicata a Luigi De Marchi, grande maestro che lavorò, insegnò qui a Padova. Nel 1928 lui si occupò di molti temi, tra cui la climatologia. divenne uno dei più illustri studiosi italiani e dicevo nel 1928 si fece promotore presso la Commissione Geografica Internazionale di proporre una commissione internazionale sui cambiamenti climatici di epoca storica, di cui divenne poi il presidente, si occupò e studiò molto l'argomento e come Mauro vi ha già mostrato, scrisse anche le voci, qui abbiamo i manoscritti, dell'enciclopedia Treccani per le voci clima e variazione del clima. In questo corner parliamo di strumenti per la misura dei fenomeni atmosferici che ci porta quindi alla dimensione del meteo che noi poi mutuiamo in clima per anche marcare questa differenza. Lo facciamo grazie a questa grande immagine satellitale del continente antartico che come sappiamo è un po' custode della memoria climatica del nostro pianeta e grazie alle trivellazioni, qui alcune foto, video degli studiosi che anche da Padova sono stati in missione in Antartide, ci permettono di ricostruire la situazione climatica del nostro pianeta con grande certezza, con grande precisione fino a 800 mila anni fa. Ben più in là arrivavano le carte, ad esempio la carta dell'Italia nell'età quaternaria di Bruno Castiglioni pubblicata nel 1940 dalla quale poi ha preso anche avvio un'altra carta che ne mantiene lo stile grafico l'Italia nell'antropocene in questa visione distopica di un futuro in cui le calotte polari saranno fuse e per cui produrranno un innalzamento del livello marino di 65 metri. Non occorre comunque andare molto lontano per vedere gli effetti del cambiamento climatico, per noi ad esempio è sufficiente andare nelle nostre Dolomiti, in particolare qui vedete un plastico realizzato in California che mostra l'evoluzione della fronte del ghiacciaio, della marmolada. Inoltre cent'anni di studi dei geografi e dei glaciologi dell'Università di Padova stiamo prendendo atto di questo cambiamento infatti i ghiacciai sono come si sente dire dei termometri estremamente precisi. I risultati di queste misurazioni da qualche anno li mettiamo a disposizione dei cittadini, delle comunità che seguono il museo, in particolare da tre anni promuoviamo una campagna glaciologica partecipata, qui invitiamo proprio le persone ad unirsi a noi per toccare con mano sul ghiacciaio di che cosa si sta parlando. La campagna di quest'anno l'abbiamo conclusa da pochi giorni e è notizia di pochi giorni fa nel Tg1 delle 8 in cui abbiamo diffuso i dati e chiedo alla regia di mandare in onda questo video. La superficie e il volume del ghiacciaio e della marmolada continuano a ridursi un effetto dei cambiamenti climatici. Elena Chemello Continuo ed inesorabile il ritiro del ghiacciaio della marmolada in atto da tempo ha nuovi numeri precisi ed allarmanti. Li hanno raccolti i geografi e glaciologi dell'Università di Padova e di Arpav insieme sulla montagna per l'annuale campagna glaciologica. Sui nove segnali frontali hanno registrato un arretramento medio di oltre 6 metri rispetto a un anno fa ma il numero che fa più impressione è quello che indica la perdita di volume del ghiacciaio. Nel caso della marmolada quello che registriamo è che in 100 anni il volume perduto arriva quasi al 90%. Che i ghiacciai delle Dolomiti siano in ritiro è chiaro agli studiosi da almeno metà degli anni Ottanta ora però oltre alle misurazioni tradizionali le tecnologie che indagano dall'alto danno un quadro di un cambiamento senza ritorno. Essere a terra e guardare il ghiacciaio calpestando le rocce che una volta hanno coperta da neve ghiaccio ha la sua importanza per dare una risposta al mondo scientifico accademico ma per dare anche la giusta e corretta informazione al pubblico che osserva questi ghiacciai che stanno arretrando stanno diventando sempre più piccoli sia un inevitabile di un qualcosa che sta mutando nel nostro ambiente. Un fenomeno irreversibile certo non modificabile dalle nevicate pur abbondanti delle ultime stagioni. non basta un'annata nevosa non basta un momento particolarmente favorevole per il ghiacciaio per invertire un trend climatico di arretramento che prosegue inesorabile. In questa sala oltre alla dimensione fisica appunto legata al clima e ai cambiamenti climatici ci occupiamo anche di affrontare quelle che sono un po' le sfide dell'oggi per cui abbiamo deciso di dedicare un corner alla dimensione della responsabilità individuale per cui abbiamo creato da una parte un armadio con molte ante che il pubblico può esplorare in autonomia per scoprire dietro appunto ogni sportello ogni cassetto quelli che sono alcuni dei suggerimenti che possono aiutare a ridurre il nostro impatto individuale collettivo sul pianeta. Consideriamo infatti che se tutti i cittadini del mondo fossero o vivessero con lo stile di vita di noi italiani avremmo bisogno quasi di tre pianeti per soddisfare i nostri bisogni tant'è che il 13 maggio si è compiuto diciamo l'overshoot day per l'Italia ovvero il giorno in cui se tutti fossimo stati italiani avremmo finito le risorse 13 maggio il che significa che dal 14 saremo in diciamo in uso stiamo aggredendo quelle che sono le risorse degli anni successivi e quindi delle generazioni successive allora fenomeni che sono globali ma che hanno ricadute locali come locali sono le risposte che da geografi dobbiamo riuscire a produrre qui vediamo una carta che mostra un indice di vulnerabilità dei territori che è un indice complesso e tra l'altro che chiaramente non può cogliere tutte le sfide dell'attuale l'importante è che la comunità dei geografi si interroghi proprio per cercare di offrire anche delle strategie non solo degli strumenti per leggere la complessità del mondo ma anche delle strategie per poterlo affrontare qui al museo proponiamo tre video che abbiamo registrato con alcuni docenti del nostro Ateneo tra cui appunto Paolo Mozzi e Massimo De Marchi questa sera però per voi mandiamo in onda il video che parla del futuro di un'area specifica che qui a Padova è stata studiata con molta attenzione e la voce è quella della voce di Marina Bertoncilla chiedo alla regia dunque di mandare questo video all'inizio è un po' silenzioso ma poi parte grazie a tutti grazie a tutti la situazione del lago Chad si è fatta pressante a partire dalle grandi crisi di siccità sailiane degli anni 70 e 80 la progressiva riduzione del lago ha richiamato l'interesse nazionale e internazionale attorno alla sua scomparsa e a quella delle popolazioni che vivevano attorno alle sue rive ma la mutevolezza è la caratteristica saliente del lago Chad le popolazioni locali avevano individuato dei modelli di sviluppo che erano basati sull'interazione con questa variabilità delle acque continua delle acque del lago quando l'acqua era abbondante si navigava e si pescava quando invece le acque si restringevano si utilizzavano le terre umidi e fertili del fondo lacustre per l'agricoltura e per pascolare le mandrie transumanti a partire dagli anni 50 si avviano i grandi progetti di sviluppo per la modernizzazione dell'agricoltura mastodontici progetti di sviluppo che tendono a fissare a ingabbiare la flessibilità caratteristica del lago Chad il sistema rifiuta questa modalità e nel tempo questi progetti che oltre all'obiettivo produttivo avevano anche quello di fissare di legare alla terra centinaia di migliaia di persone falliscono quello che è certo è che il lago continuerà a cambiare diventa quindi rischioso investire su grandiosi modelli di sviluppo grandiosi progetti di sviluppo sull'esempio delle esperienze fallimentari del passato molto più saggio probabilmente rivolgere l'attenzione alle modalità individuate dalle popolazioni locali che utilizzavano progettualità leggere flessibili mobili più adatte ad articolarsi con i ritmi diversi del lago eccoci ci troviamo nell'ultima sala del museo vedete che c'è stato un cambio di luce qui una sala piuttosto scura quando si entra in visita al museo questa sala si presenta completamente buia e poi parte un'animazione che va ad illuminare diciamo così in sequenza una serie di pezzi in realtà la sala non gioca tanto sulla collezione di pezzi quanto piuttosto sul racconto sulla narrazione si chiama sala delle metafore è in qualche modo è intitolata a Giuseppe Dalla Vedova uno dei padri della geografia patavina ma evidentemente richiama le metafore della terra di Giuseppe De Matteis quindi tre pezzi che in realtà sono tre metafore tre parole chiave della geografia che noi vogliamo raccontare a partire proprio da elementi del nostro patrimonio come in questo caso questo mappamondo borgiano appunto scoperto diciamo acquistato da Stefano Borgia nel 1794 poi riprodotto qui in una incisione che riproduce esattamente l'originale che è conservato ai musei vaticani e a partire da questa mappa che risale ai primi decenni del Quattrocento abbiamo raccontato quello che è l'idea di luogo che si sviluppa e che si dipana diciamo dalle descrizioni dai racconti dalle narrazioni appunto che sono contenute all'interno di questa rappresentazione cartografica che in qualche modo anticipa e anzi precede quella che è la fase diciamo moderna della precisione dell'esattezza geometrica questo è un primo elemento su cui la narrazione si sofferma e un secondo elemento su cui la narrazione si sofferma è questo attrante murale di Paul Vidal della Blas uno degli strumenti didattici più importanti realizzati appunto tra fine ottocento e inizio novecento della scuola francese di cui conserviamo tutte le tavole in questo caso appunto queste tavole che rappresentano appunto gli elementi del paesaggio e la loro terminologia ci servono appunto per riflettere sul modo in cui è cambiato nel tempo anche il concetto di paesaggio e questo ci dà il là appunto per raccontare dell'importanza che ha oggi appunto nella contemporaneità appunto il tema del paesaggio il tema del paesaggio che poi è al centro di raffigurazioni e di immagini che vengono proiettate in questo schermo luminoso che in questo momento richiama solo il viandante sul mare di nebbia che è un po' insomma un elemento significativo diciamo del rapporto tra soggetto che guarda appunto e realtà osservata che è il centro appunto della riflessione sul paesaggio l'ultimo pezzo non ve lo racconto io è il plastico più grande che conserviamo qui all'interno del museo è un plastico di oltre tre metri e mezzo per due metri e mezzo di dimensioni è apparentemente piatto in realtà ha una dimensione sferica che si può apprezzare da vicino e questo plastico di Charles Perron realizzato originariamente per questa esposizione universale di Parigi del 1900 su un progetto di Lise Réclou vi viene raccontato dal prossimo video che prego la regia di mandare in onda di Lise Réclou 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 Grazie a tutti. 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 questi libri fossero i miei, in verità non sono mai stati i miei, ero solo quelli che li ha conservati per qualche anno, insomma, e anche pochi rispetto alla cronaca che ha viaggiato una trentina di generazioni, tanto per dire, insomma, no? Questa che ho fatto con voi è un'altra cosa, questo mi rende, insomma, orgoglioso e so che non vanno, che stanno lì, hanno trovato una cuccia, una casa e questo è il motivo. La carta è dura, non fu di noi. Siamo ora in diretta dal computer di Mauro, non so se ci vedete. Eccoci qui, la visita si è conclusa, si sta concludendo, noi speriamo che nonostante appunto la dimensione tecnica, abbiamo richiesto vari movimenti, si è potuto apprezzare il tour che abbiamo pensato per voi, che come aveva già anticipato Mauro, insomma, abbiamo cercato di dare ritmo a una serata che sappiamo essere comunque impegnativa per tutti i convegnisti che hanno già seguito diverse ore di attività. A noi farebbe molto piacere avere un feedback da parte vostra, se ne avete la forza, l'energia, se avete piacere di aprire il microfono o chiedere la parola alla regia o semplicemente lasciare un messaggio in chat, a noi fa piacere, poi chiaramente ci saranno la possibilità e il modo di entrare in contatto con noi attraverso tutti i canali del Museo di Geografia, che sono social, ma che sono anche la newsletter, il sito e ovviamente l'email e il telefono. Abbiamo visto molti amici, molte amiche tra di voi, intanto già vi ringraziamo. Antonella, che sta facendo lo stesso percorso a Genova, vedo che ha sempre più voglia di venire, speriamo che possa essere finalmente questa occasione. Antonella, grazie per esserci stata, per essere intervenuta. Grazie. Noi diciamo sempre ai partecipanti che questa è una visita al Museo di Geografia dell'Università di Padova e non è un museo della geografia, proprio per specificare che non andiamo a concludere, a spiegare, a raccogliere tutto quello che la geografia può essere, perché lo vediamo dai numeri di questo congresso, sarebbe impensabile e impossibile. Per cui, visto, non so se la regia vede delle mani alzate, io non ne vedo. Eventualmente, nell'attesa che magari qualche messaggio possa uscire, se uscirà, noi abbiamo un ultimo contributo video, che è di fatto il video che abbiamo lanciato in una rubrica che si chiama Sasso Carta Forbice, una rubrica di presentazione di libri che hanno a che fare con il nostro patrimonio e che sono disponibili in quello scaffale che Mauro ha mostrato lì nell'angolo. In particolare, chiediamo alla regia di mandare in onda il video di presentazione del libro Explora Misura Racconta, che in qualche modo raccoglie l'esperienza del museo di geografia ed è un libro che si può acquistare anche online e che è comunque disponibile, sfogliabile online e scaricabile in PDF. Per cui chiedo alla regia di questo ultimo intervento. Per cui chiedo alla regia di mandare in onda il nostro patrimonio Questo libro racconta della storia e del patrimonio del museo di geografia dell'Università di Padova che è stato inaugurato il 3 dicembre 2019 e che è il dodicesimo museo della galassia ricca e vaniegata del centro d'ateneo per i musei dell'Università di Padova e il museo di geografia rappresenta una tappa importante di avvicinamento al 2022, anno in cui si festeggeranno gli 800 anni dell'Università di Padova. Il 2022 sarà l'ottocentesimo anniversario della fondazione dell'Università di Padova ma sarà anche il centocinquantesimo anniversario della prima cattedra di geografia in Italia proprio a Padova e quindi Padova è stata a fine ottocento apripista per una moderna concezione della geografia in Italia e oggi lo vuole essere ancora di più con una idea di geografia aperta al pubblico, la società civile e al rapporto con il territorio. Il libro ci introduce nel museo da tre diversi punti di vista prima dall'alto con uno sguardo a volo d'uccello sulle collezioni materiali e quindi i globi, i plastici, le carte, le fotografie, gli strumenti ma anche sul patrimonio di ricerche che questi hanno sostenuto e reso possibile Poi lo sguardo entra nel sale del museo in un'ideale visita guidata alla scoperta di come gli oggetti, le storie, i personaggi del passato si intrecciano e rivivano nei temi della geografia del presente Infine il punto di osservazione esce dal museo e ci conduce a scoprire come questo abbracci il territorio e coinvolga la comunità a scale e in modi sempre diversi promuovendo una diffusione dinamica e creativa del sapere geografico Attraverso questo volume che abbiamo fortemente voluto fosse liberamente scaricabile online oltre che acquistabile nella sua appreggiatissima versione cartacea Vogliamo restituire a tutte le comunità che ci hanno supportato durante il processo di generazione, ideazione e realizzazione del museo uno strumento concreto per esplorare, misurare e raccontare il museo di geografia Speriamo che le parole e le immagini custodite all'interno di questo volume possano ispirare e invogliare le persone che ancora non sono venute qui in visita a venire a trovarci e soprattutto permettano a chi è stato in visita di approfondire e di promuovere il messaggio veicolato dal museo anche all'interno delle proprie comunità di vita Grazie a tutti Abbiamo sbirciato i commenti durante la visione Vi ringraziamo davvero per i vostri feedback e per i vostri riscontri A questo punto non ci resta che ringraziarvi per aver passato questa serata in nostra compagnia e darvi appuntamento di persona qui a Padova, in Via del Santo, al Museo di Geografia Grazie a tutte e buona serata Grazie a tutti Grazie a tutti